Al pomeriggio e prima di iniziare però vi rubo un minuto per informarvi che è online il sito www.latinitaslangobarda.mina.it che è quello anche che trovate in pace alle locandine, lì ci sono anche informazioni sui seminari. Ci saranno altri studenti. Allora passo la parola a Rosanna e iniziamo i lavori di questo pomeriggio. Allora, buonasera a tutti, benvenuti tutti. Il seminario di oggi pomeriggio è molto ricco di interventi. È articolato in due sezioni. La prima sezione in cui parleranno delle liste e la seconda sezione in cui ci saranno storici e paleografi con una prospettiva che noi pensiamo sia molto molto complementare e sicuramente le due ottiche si integrano molto bene. La prima relatrice di oggi pomeriggio è Maria Francesca Giuliani, che è una collega e amica con cui abbiamo fatto molti pezzi di strada insieme. Maria Francesca è una sorta di Jekyll e Hyde perché lei ha una doppia identità, è una ricercatrice del CNR che lavora presso un atelier che per noi linguisti è molto importante e anche molto prestigioso, l'opera del vocabolario italiano del CNR a Firenze e la sua doppia anima di Jekyll e Hyde è dovuta al fatto che lei in realtà, se volesse potrebbe, è un'accademica in senso stretto perché è abilitata all'insegnamento universitario, quindi lei ha queste due anime interessanti e nella sua lunga e molto intensa carriera di ricerca presso l'opera del vocabolario italiano ha veramente raccolto studi importanti, il suo lavoro saggi di stratigrafia linguistica dell'Italia meridionale pubblicato nel 2007 da Clus a Pisa è veramente un lavoro importante, importante metodologicamente, importante per le prospettive che ha aperto in cui ci sono molte idee che sono state messe in valore, una in particolare che per me è stata sempre particolarmente illuminante quella della ricchezza di scambi, di relazioni che queste documentalità mostrano non soltanto linguisticamente ma anche storicamente, culturalmente e del cosiddetto policentrismo che è un'idea dei centri di scrittura dell'Italia alto medievale a cui Maria Francesca ha dedicato delle considerazioni che credo siano rimaste ancora oggi fondamentali ma Maria Francesca si è occupata anche di altre cose, non soltanto di lessico, è una lessicografa di lungo corso ha redatto molte voci del lessico etimologico italiano e anche il suo lavoro fa da interfaccia tra l'opera del vocabolario italiano e il lessico etimologico italiano, ma poi si è occupata di sintassi per esempio del problema delle preposizioni che è un problema teorico molto interessante sia dal punto di vista teorico generale, potremmo dire pancronico sia dal punto di vista di acronico, si è occupata di polirematiche, si è occupata di clitici quindi come vedete tutta una gamma di interessi di linguistica generale e storica molto sfaccettati e poi abbiamo lavorato per molti anni insieme per vari print con gli storici del diritto romano sull'idea di volgarismo in queste documentalità e grazie per aver accettato di presentare questa relazione il tema di cui Maria Francesca ci parla oggi pomeriggio è la prospettiva intertestuale nell'analisi della cultura documentaria meridionale tra confini e pluralità Allora, ringraziando tantissimo Rosanna per questa bella presentazione ecco, sfrutto una cosa che tu hai detto le varie anime, ecco, in questa occasione mentre comincio la condivisione del mio PowerPoint eccolo qui tornerò, diciamo, alla mia prima anima l'anima, diciamo, con cui mi sono addottorata quella che poi è sfociata nel libro Assaggi di strategia linguistica dell'Italia meridionale e questo seminario mi sembrava un'occasione splendida perché alla fine realizza e con sogno diciamo un'idea, un miraggio che avevo quando mi occupavo per la tesi di dottorato di analisi all'interno della produzione documentaria medievale quella di potermi confrontare con storici e paleografi per leggere opportunamente delle carte che necessitano di questa prospettiva di confronto Allora, vado direttamente all'argomento frequentemente negli studi di storia linguistica la presenza longobarda è stata associata all'idea del confine Un grande lessicografo romanista, Max Fisser ha fatto riferimento più volte al dualismo tra Italia longobarda e Italia bizzertina ad esempio valorizzando il blocco romagnolo al Veneto lagunare libero dall'influsso longobardo che funziona da macroarea linguistica in quanto nelle fonti più antiche dà conto di tratti che si presentano come differenziali rispetto a quanto si vince dalla documentazione di altre aree padane Il confine mobile tra longobardo e bizzantini assume particolare rilievo nel suo italiano ed è la traccia di linee di avanzamento bizzantino che probabilmente ricalcano o fronteggiano margini di avanzamento longobardo come nel caso della linea rappresentata dai tuponi nipogliesi da sculca, pattuglia di esplorazione ma anche e soprattutto posto di vedetta in una mappa, quella che vedete nella slide che disumo da un celebre studio di Francesco Sabatini i riflessi linguistici della dominazione longobarda nell'Italia mediana e meridionale sculca è una voce gotica per messa ai longobardi ma anche ai bizzantini ed è molto difficile insomma dire con chiarezza se queste tracce toponomastiche siano posti di vedetta appunto longobardi o bizzantini o se diciamo ci sia un riuso da parte di bizzantini di impostazioni precedentemente stabiliti dai longobardi stessi nella stessa mappa vediamo un margine tra principato longobardo e tema bizzantino di longobardia definito dalla linea dei toponimi da fara che significa corpo di spedizione ma è usato anche è un toponimo anche di carattere insediativo indica in particolar modo un centro abitato costituito da un nucleo gentilizio quindi un piccolo nucleo fondiato il sud dunque è terra in cui la presenza longobarda traccia confini ma risalta anche come fattore di coesione in primo luogo perché tale presenza è correlata ad una condizione storica di sottrazione come afferma Jean-Marie Martin bisogna notare che la dominazione franca estesa da Carlo Magno all'insieme di Italia Centro e Centro e Centro non raggiunse il mezzogiorno che ne trasse in negativo la sua prima definizione politica secondo uno sguardo che ha probabilmente radici italo-normanne gli individui latini provenienti dalla Puglia più in generale dal Regno di Sicilia attivi nell'Oriente Crociato al seguito di Federico II erano identificati come longobardi ne ha scritto di recente Laura Minervini ma un accenno era già nello studio di Sabatini prima citato si tratta di Laura Minervini ha analizzato in particolar modo la diffusione della forma longobarda nei testi antico francesi quindi c'è un'identificazione longobarda globale che tende a marcare tutto il strutto ma ecco in senso ampio ci sono anche diverse longobardie Longobardia è il nome del tema bizantino con sede amministrativa a Bari che nel IX secolo si sostituisce idealmente al precedente gas saldato il dislocato la denominazione fa riferimento soprattutto alla prevalenza delle istituzioni longobardi le quali avevano messo così profonda radice nella popolazione pugliese che i bizantini non pensarono neppure lontanamente a supprimerle e quanto afferma Antonietta Amati raccontando del radicamento a Bari e nella cuglia barese della normativa editale poi confluita nel diritto consuetidinario barese quindi l'elemento longobardo acquisì nell'Italia meridionale un ruolo preponderante nella costruzione di un'identità storico-giuridica si tratta però e sarà importante sottolinearlo con le parole di uno storico Walter Paul si tratta di un'identità costruita dopo il 774 comincia a Benevento una vera e propria politica dell'identità longobardi si diventa e la longobardia meridionale ospitò una cultura in piena trasformazione dominata dai rapporti simbiotici pur nel quadro di dinamiche di scontrasto le identità compresenti nel contesto del meridione pre-normano e pro-normano condividono il senso della regionalità se non della municipalità sono identità che coniugano caratteri sovralocali e locali nel senso che proiettano in originali sintesi locali preiezioni e suggestioni differenti il confine non fu mai un'argine alla mobilità ai contatti e ne recano traccia ai manufatti prodotti storico-artistici l'onomastica e anche l'esco documentario rendono conto di incontri e contaminazioni contaminazioni un'immagine simbolica alla sinistra sulla slide un affresco che raffigura affiancati una coppia di santi i santi fondatori del monatesimo latino-ortodosso San Benedetto in veste monetale e San Basilio in abiti d'avesco bizantino si tratta di un affresco contenuto nella cripta di San Lorenzo uno dei tanti santuari rupestri presenti nel lago di Fasano a poca distanza da Brindisi in un lungo itinerario che si colloca bene al margine tra Puglia Longobardo Cassini e Puglia di Santino prende forma dunque nel sud una cultura Longobarda spaccettata e persistente persistono senza dubbio le strutture del documento Longobardo trasmessa all'intero meridione normanno aree bizantine incluse abbiamo parlato nel corso dell'ultimo incontro della regalante ho fatto riferimento a questa slide ad un articolo di Alessandro Parchesi ed è questa persistenza che interagge giustifica anche per un'analisi linguistica un approccio inclusivo trasversale orientato al confronto intertestuale capace di valorizzare continuità e differenze pur tenendo conto delle molte disparità presenti in una così ampia documentazione una disparità rappresentate da cronologie nell'accesso alla scrittura nella conservazione della scrittura differenti discrepanze dovute a densità documentari differenti e discrepanze dovute alla qualità filologica non omogenea delle edizioni vedete in questa slide semplicemente un elenco rappresentativo di alcuni riferimenti dei documentari che raccolte documentarie che citerò a proposito gli spunti che vedrete nelle prossime slide e anche soltanto uno sguardo alle date di alcune edizioni consente di testare questa disparità e andiamo ad esempio dalla metà dell'ottocento dei regi nepoletani archivi monumenta fino agli ultimi decenni del ventesimo secolo dell'eccellente edizione delle carte latine antiguori la disparità costituisce un limite ma solo il confronto può restituire l'evidenza del particolarismo della scrittura documentaria fino alla età normanna a particolarismo che lascia caccia anche nel lessico uno spunto desunto da un recente studio di Lorenzo Tomasin è utile per riflettere sulla bontà del metodo afferma il Tomasin che la comparazione tra testi coedio geograficamente e culturalmente omogenei consente di dar valore ad elementi che presi singolarmente potrebbero acquisire un debito valore assoluto aggiungerei da valore ad elementi che diversamente rischierebbero di passare in osservati le osservazioni possono essere stese naturalmente allo studio della documentazione prevolgare Rosanna Sornicola con il suo gruppo si occupa ormai da più di 15 anni di indagine sulla documentazione campana selezionando opportunamente sistemi di varianti comparabili tra loro al fine di delineare i livelli stilistici che differenziano più centri o che siano competenti nella produzione di un unico centro di struttura con uno zoom diverso è possibile utilizzare alcune delle varianti individuate come indicatori per un'indagine di confronto tra collezioni documentali coeve o di poco distanziate ma di diversa area le carte di cava del nono secolo evidenziano ad esempio casi di un uso protratto del deponente per talune forme verbali o tracce di deponentizzazione per esempio per il verbo venire ne ha parlato e ne ha scritto Simona Valente che mi seguirà in questo pomeriggio ora qualcosa di simile si riscontra per la Puglia in particolare ha fatto riferimento in particolare a carte di conversano e monopoli del decimo secolo in particolare a carte di conversano si tratta di centri di scrittura collocati a sud e nel caso di conversano a sud est di Bari per conversano si è parlato di un centro di scrittura in particolare interesse che si si distingue per un principio particolarismo notarile ora nelle carte di conversano in monopoli ritroviamo il tipo sensor è difficile dire se si tratti di un deponente o piuttosto di un passivo modellato su video vediamo che regge l'infinito di certo interessa non solo la caratterizzazione morfologica riguardo a questa forma ma anche la tipologia lessicale osserviamo un verbo di percezione che introduce la consapevolezza di donne di soggetti giuridici specifici si tratta di donne infantuli e persone inferme soggetti giuridici che potremmo definire deboli che rilasciano dichiarazioni su condizioni personali e daveri si avvertirà sullo sfondo per chi ha seguito anche il precedente seminario a febbraio si avvertirà sullo sfondo la suggestione della forza pragmatica del Sao dei Placidi Campani nel quadro della procedura processuale Longobato una forza ben evidenziata da Domenico Proietti il senso e la pragmatica di senso dovrà essere analizzata in serie di analoghi di conoscenza e percezione al momento ne segnalo l'interesse in quanto si tratta di un interessante localismo documentario di estensione direi municipale non ci sono tracce di un uso così persistente ad esempio anche soltanto nelle carte barriese conservando conservando uno zoom esteso alla documentazione di più aree vorrei soffermarmi ora sul lessico e sul ruolo dell'indagine intertestuale cooperativa nell'individuazione di opzioni lessicali che segnano il contrasto con le opzioni preferite in altre aree cito una frase di barbara opzioni che consentono di valorizzare un particolarismo di scala regionale o municipale un particolarismo tipicamente associato al lessico rappresentativo della cultura materiale ne hanno parlato nello scorso autunno marcello aprile e valentina ferrari io porterò qualche esempio per un lessico strettamente arrelato alla formularità documentale termini che designano adiacenze ovvie di entrata uscita e anche indicazioni di confine l'insieme del lessico che sotto certi aspetti è stato trascurato perché coniuga concretezza e astrattezza è il lessico però che contraddistingue le tradizioni documentarie circoscritte radicate in ambienti locali quindi di estensione regionale o municipale vediamo in questo slide un esempio per transitus o transitum riferito all'ingresso di una proprietà o più propriamente alla possibilità di ingresso in una proprietà è qualcosa di diverso dalla designazione di una via di accesso e quindi è un'opzione lessicale che contraddistingue insieme la documentazione diciamo pugliese usando Puglia naturalmente virgolettando insomma l'utilizzo dell'indicazione locale l'institut di Sanimanto la Puglia ma troviamo traccia sostanzialmente da Troia nella Daunia in contesto numero 9 fino ad Ostuni in contesto numero 10 e ancora per esempio nella documentazione di Lucera di Venosa e anche numero 7 a Ravellino si tratta tra l'altro di una tipologia lessicale di un'attestazione la prima attestazione è in un documento rogato a Trani un documento indubbiamente di età lungo ma c'è una continuità nell'uso di questo lemma in tutta la tradizione documentaria appunto di questa macroaria è un termine che si oppone a lemmi analoghi preferiti nelle carte di altre aree mi riferisco in particolare ad Ambitus che lo accompagna talora nella documentazione pugliese vediamo il contesto numero 5 o a forme come ingressus che sia compagna regressus o introitus tracitus che accompagna ad Exitus o Exitum comparendo appunto in alternativa all'Anditus per esempio più frequente nell'ambito della documentazione tampana un discorso analogo può essere fatto per il tipo coerenzia coerenzia al plurale che nella documentazione di Napoli fino alla piena età normanna è utilizzata ad indicare la diacenza e la pertinenza di una proprietà un lemma interessante alternativo al più diffuso pertinenza diffusissimo nella documentazione napoletana basti anche soltanto un riferimento alla ricerca di una stringa coerenti nella banca dati alim ecco su un totale di 111 risultati 110 sono risultati relativi a documenti napoletani ho trovato un solo esempio beneventano quello che vedete il 5 l'interesse di coerenzia così come del transitum precedentemente evidenziato è che si tratta di teatopismi o localismi che potremmo dire scrittologici non abbiamo cioè tracce di un sradicamento di questi due leggi nella variazione dialettale nel repertorio dialettale della varietà napoletana per quanto riguarda transitus nell'estico pugliese al contrario rimanendo su coerenzia ecco uno sguardo alla voce del clio coerenza e a parte dell'articolo coerenzia del lei ci consente di verificare c'è un radicamento non è un radicamento in area meridionale né tantomeno napoletana ma in area settentrionale e con riferimento alla documentazione volgare in area veneta ed è il veneto il veneto è il vocabolario etimologico veneto ci offre faccio una piccola digressione un ottimo esempio parallelo per il tipo e coerenzia e mi riferisco al tipo abense in plurale che ha ottenuto dignità rappresentativa nel vocabolario etimologico del veneziano nell'accenturia pubblicata fino ai 2020 in quanto rappresentativo delle scritture amministrative veneziane del cinquecento una voce che era stata valorizzata da francesco come resa semicologale del latino medievale abensia riferito ai beni mentre abense propriamente nelle scritture amministrative semicologali più che altro indica appunto le adiacenze di una proprietà non si tratta probabilmente di un occasionalismo ne troviamo diciamo indicazione nei riferimenti soprattutto lessicografici raccolti dalla voce del Venn è diciamo un discorso che mi è sembrato notevole perché è interessante che un localismo circoscritto anche nel tempo come questo possa diventare oggetto di attenzione nel quadro di un progetto di ricerca dedicato allo studio dell'essico di una specifica varietà storica nel questo caso del veneziano con l'ausficio insomma che qualcosa di simile possa diciamo nelle ricerche future essere destinato anche alle carte medio latine di ambiente meridionale ora se il confronto tra testi di diversa area dà rilievo alle opzioni peculiari l'approccio stratigrafico è quello che consente meglio di inquadrare la lingua e lessico documentale nel contesto storico-culturale e storico-linguistico di appartenenza un riferimento alla stratigrafia linguistica inaugurata da Paul Bichette è doveroso l'approccio è stato indirizzato a estendere l'ottica della geografia linguistica all'indagine della lingua e delle fonti documentali archivistiche analizzate come testimonianza di strati sedimentali profondi ecco nell'ottica di Bichette cioè alla base dell'approccio della stratigrafia linguistica una metafora geologica cioè l'idea che per interpretare la presenza o l'assenza di determinati elementi linguistici in uno stato superficiale occorre a coniugare un'indagine orizzontale con una verticale in più strati e non limitati ad analizzare lo spazio al percorso vitale di una parola analizzata singolarmente in quanto la voce deve essere analizzata in serie con elementi formalmente semanticamente o funzionalmente affini così da poter valutare eventuali successioni o comunque convivenze dunque facendo tesoro di questo modello di indagine le tracce di una voce longobalda che appare diffusissima nel formulario dei documenti della Puglia ma non sole si tratta di un lemma che ha già introdotto in realtà Marcello Aprile lo riprendo diciamo nell'ottima della strategia linguistica un lemma analizzato da Ebischer ma è stato accetto dell'attenzione anche di Sabatini di Max Pfister e io sono soltanto l'ultima diciamo in questa serie di giganti ecco mi riferisco con SNAEDA a una voce presente nell'editto di Rotary il ritaglio che vedete nella slide è tratto dalle vestige a Longobardi della Prankovicionetti compare nell'articolo nelle articoli 240 e 41 dell'editto di Rotary cosa indica? Indica la tacca sull'assortezza degli alberi utilizzata come segno di confine di proprietà è una voce interessante perché consente di apprezzare la diffusione e la radicamento della cultura giuridica a Longobardi un quadro documentario ampio e si tratta di una diffusione di radicamento che è imprescindibile da fenomeni di contatto e contaminazione ci sono risconti naturalmente per l'ideacronia per una continuità inalterata insomma non toccata da incroci per quanto riguarda il tipo Smyra mi riferisco al tipo Sinaita che ha continuità nel lessico mediano in particolare Umbra maceratese e abruzzese quindi diciamo in corrispondenza dell'anticaria del Ducato di Spoleto in questo slide vedete le tracce dialettali ma anche alcuni dei più antichi riscontri reperibili nel quadro della documentazione volgare secondo la voce del Trio quindi limitata alla soglia della fine del Trecento in realtà ci sono differimenti anche successivi allora interessante il radicamento della voce in questo ambiente propriamente lungomarto di tradizione lungomarto ma una più ampia area di continuità persistenza è associata ad un incrocio al tipo Finaita o Fineita un incrocio di Smyra con il latino Finis che si riscontra ancora in ambiente mediano in particolare soprattutto in punti e faccio riferimento al lessico dialettale ma anche alla documentazione volgare si riscontra in corrispondenza del cosiddetto corridoio bizantino stretto tra la truscia e il lucato di Spoleto per quanto riguarda i esperimenti dialettali naturalmente siamo in vicinanza del lucato di Spoleto quindi dell'ambiente della Finaita ma diciamo interessa l'ampia diffusione di questo tipo lessicale poi un ampio ambiente meridionale insulare e mi riferisco ai tipi Finata e Finaita che ricorrono nel lessico direttale della Calabria centrale di Sicilia Sicilia ha anche testimonianze trecentesche del lessico volgare insomma i testi volgari e diciamo per una chiara visione della discussione possiamo riferirci ancora una volta ad una carta del Sabatini una carta riferita alle tracce toponomastiche sostanzialmente si va da Gaeta in giù lungo una fascia pirrenica la carta esclude la Sicilia ma in realtà il tipo Finaita è presente in Sicilia e mi riferisco all'estico ma anche ai riferimenti toponomastici il vocabolario storico etimologico del siciliano dà conto dei tipi tre Finaita e quattro Finaita riferiti a molte località distribuiti diciamo variamente distribuiti nell'ambiente siciliano ma soltanto nella Sicilia occidentale come risultava dalla dall'anamnesi fatta nel 63 da Francesco Tabachini questa finalità indica il confine tra campi ma anche il segnale di confine vediamo che ci siamo diciamo disgustati dalla semantica propria della snaida dell'editto di Rotary e alla fine il riflesso probabilmente di una forma che si riscontra in un quadro documentario è presente in maniera reiterata nella documentazione pubblica e privata calabrese di età normanna la dove indica un confine astratto e per estensione anche un territorio confinato documentazione normanna di età normanna ma anche normanna si attribuisce in effetti l'adozione della voce senz'altro l'ampia diffusione e probabilmente la risemantizzazione secondo un'ottica giuridico economica amministrativa un'ottica che ricalca probabilmente almeno nel quadro calabrese un'organizzazione diciamo di stampo bizantino quella della cionoria cioè il confine territoriale vedete un esempio detratto da il brevion della metropoli di reggio datato all'incirca al 1050 prima dell'arrivo dei normanni sostanzialmente e quindi finaica viene utilizzato con una semantica che sembra affina quella della cionoria o diversamente della diacratesis che terminologia che occorre appunto nella documentazione greca l'ambiente calabrese e di età normanna siamo lontani evidentemente dal retroterra tutto rurale di Sneida che invece permane ancora ben riflesso nella documentazione delle aree di traduzione giuridica a Longobatta e partiamo con le occorrenze le poche occorrenze campane d'ambiente salernitano non cerino poche occorrenze però una in particolare l'ho evidenziata in violetto a una semantica che sembra ricalcare quella propria del testo dell'elitto di roterci fa riferimento ad un'incisione praticata insomma un'incisione segnaletica praticata sulla corteccia degli alberi tipo signaita un onnesimo incrocio di Sneida con il latino signum signare lascia traccia nella documentazione campana la prima attestazione in realtà promediere da un ambiente mediano da una carta ariatina un tipo lessitale un approccio che nella forma signaida ha un'allattissima diciamo inveterata lunga continuità e persistenza ampiamente ritirata nelle carte della Puglia barese di centri collocati soprattutto a nord di Bari all'incirco si riscontra dal 925 fino al 1260 che il tipo signaida è un'espressione significativa del particolarismo documentale della Puglia centrosetenzionale da Melfi sostanzialmente fino a Brindisi in questa tradizione documentaria la voce è integrata in un sintalma con alcune varianti e il sintalma del tipo signaide petre fitte quindi la snaida partecipa in quest'area la disegnazione della pietra o del cumulo di pietre indicativi del confine probabilmente segnate e uccise dalla croce per quanto riguarda il cumulo vi rimando alla specla a cui fa riferimento il contesto citato il 5 allora il referente ecco quindi la pietra segnaletica o comunque la pietra che arriva all'incisione della fece è chiaro se ci si confronta anche con la documentazione di aria in cui diciamo signaida è meno presente o non è presente e faccio riferimento nel primo caso alla documentazione a sud di Bari sostanzialmente da Ostuni Oria Conversano insomma fino a Brindici dove l'uso di signaida si fa meno fitto insomma e comunque si moltiplicano diciamo i contesti in cui si fa riferimento con diversa formulazione a petre posite prosigno o comunque segniacoli che avvengono l'incisione della croce si si può anche confrontare con documentazione calabrese e siciliana cambia la terminologia ma il referente costante è rappresentato da pietre non soltanto pietre in realtà diciamo è frequentissimo naturalmente dipende dall'ambiente naturale il riferimento a alberi diciamo di confine che recano l'incisione della croce e comunque insomma da l'idea ecco questi esempi che ho voluto raccogliere tratti anche da documenti greci l'ambiente talabrese ecco dall'idea diciamo dell'ambiente in cui si situa diciamo la segnaida petra fitta del contesto della Puglia centro settentrionale ed una diciamo ribadisce la centralità soprattutto nel contesto pugliese nel riferimento alla pietra di confine il fatto che anche nella documentazione pugliese si sia possibile rinvenire traccia del precedente ecco il croce visto in precedenza quello di snaida con finis in documentazione di Molfetta a nord di Bari la più tarda ecco e più scarna documentazione leccese di età normanna è possibile ritrovare riferimenti a questa finita che è costantemente una pietra di confine la semantica è chiarita anche poi dai discontri dialettali finita finita a continuità nell'estico dei dialetti sorrentini e c'è un discontro anche per quanto riguarda l'area molfettese ecco anche in questo caso diciamo si può pensare che ci sia un tramite normanno che abbia favorito la continuità di questa terminologia e un discorso diverso si può fare per quanto riguarda la segnaida delle carte della Puglia al centro sintonale non è una voce una tipologia lessicale che lascia traccia nel lessico dell'area del lessico dialettale in generale e quindi un'opzione lessicale che ha riferimento ad una tradizione giuridica e segna con questo il contrasto con opzioni preferite in altre aree qualcosa di simile può dirsi per la segnata utilizzata nelle carte napoletane dei secoli X-XX indica per lo più l'incisione di una croce praticata in questo caso sui paesi murari soprattutto ed è forse la più chiara testimonianza della diffusione di snaiga in area campana recuperabile in una forma totalmente delongobattizzata e riassorbita in una faccia flatina anche in questo caso potremmo parlare della traccia di un particolarismo documentale in questo caso pienamente municipale un particolarismo proprio di una scritta che Sabatini definisse semivolgare una scritta che contempera elementi innovativi entro strutture coerenti con una latinità di lunga durata ho terminato ho tolto la condivisione del mio schermo e ho terminato la mia comunicazione lascio la parola a Simone bene grazie grazie Maria Francesca e adesso abbiamo la seconda la discussione la discussione la faremo congiunta dopo le prime due relazioni dopodiché ci sarà una pausa prima di passare alla seconda sezione del pomeriggio adesso abbiamo la relazione di Simona Valente che è professore di linguistica nell'università Vambitelli e anche lei è una collega un'amica con cui abbiamo condiviso lunghi pezzi tratti di strada Simona ha degli interessi che sono nati come interessi di studio della sintassi diacronica e diciamo era un interesse che partiva dalla sua tesi di dottorato che è stata preparata presso la Federico II nel dottorato di ricerca della Federico II sui testi siciliani antichi interesse che poi ha prodotto un volume dal titolo La subordinazione gerundiva e participiale in testi siciliani del XIV secolo e questi interessi di teoria linguistica applicata a testualità storicamente determinate questo interesse ha un po' contrassegnato anche gli sviluppi successivi del suo percorso di ricerca perché non soltanto sintassi ma anche morfologia teorica che è un po' la torre d'avorio per noi linguisti generali della struttura linguistica e di nuovo morfologia vista nei suoi risvolti teorici complessi ma anche nelle sue applicazioni a testualità storicamente determinate e ricordo da questo punto di vista il volume la variazione morfologica nel verbo delle carte cavenzi del IX secolo pubblicato proprio recentemente ma a questi interessi di teoria linguistica applicata poi a casi di testualità elettroniche Simone aggiunge anche altri interessi per la dialettologia italiana e romanza si è occupata per esempio di interessanti problemi di morfologia del verbo nelle isole flegree in particolare nell'isola d'ischia e anche più recentemente si è occupata a diretto uno studio presso l'università Van Vitelli sugli aspetti sociolinguistici della città di Caserta che è uno studio molto interessante e un po' si salda anche a questi interessi dialettologici più antichi e poi c'è un altro versante che è quello della sociolinguistica delle minoranze dei processi di multilinguismo perché Simona ha lavorato assieme ad un'altra amica e collega Emma Milano sulla comunità Bresch di Gresh in Campania che per noi linguisti è certamente uno straordinario caso di studio di processi antichi di multilinguismo che però hanno delle loro dinamiche molto particolari legate all'Italia meridionale ma in particolare legate alla situazione sociostorica della Campania e la ringrazio anche lei di aver accettato di preparare una relazione oggi pomeriggio e oggi pomeriggio ci parlerà di continuità di scontinuità e instabilità della morfologia verbale delle carte Cavensi del nono secolo Buon pomeriggio a tutti ringrazio Rosanna Sornicola per la presentazione e comincio il mio intervento di questo pomeriggio condivido anch'io un powerpoint ecco qui dovreste ecco dovrebbe essere visibile e nel mio intervento di questo pomeriggio farò alcune riflessioni a partire dall'osservazione della morfologia verbale del corpus su cui si concentra il lavoro della unità di Napoli diretta dell'unità del PRIM diretta da Rosanna Sornicola ovvero gli atti notarili del nono secolo conservati in forma originale nell'abbazia di Cava dei Tirreni e pubblicati nei volumi 50-52 delle carte latine antequiores a cura di Maria Galante e Francesco Magistrale presentazione in questa mia e quindi l'approccio che un attimo solo scusate eccomi qui allora l'approccio che sarà che diciamo che caratterizza uno degli approcci che caratterizza questo lavoro è quindi costituito da un'osservazione su un'area specifica quindi in una prospettiva che Maria Selig ha definito regionalistica nella prima di questi seminari e oggi in particolare cercherò di presentare alcuni fenomeni ed anche alcune riflessioni di ordine teorico metodologico che l'analisi della morfologia del verbo lascia emergere da un lato in merito allo statuto teorico di queste produzioni testuali e dall'altro riguardo alle diverse componenti del tessuto linguistico di questi documenti e all'interpretazione della variazione morfologica in essi presente nell'osservazione della variazione morfologica nella osservazione della variazione morfologica presterò particolare attenzione alla dimensione sociolinguistica al centro di questi seminari nonché del PRIM coordinato da Piera Molinelli in generale possiamo dire che l'analisi della morfologia verbale del nostro corpus contribuisce a delineare la facies della lingua delle carte come una varietà linguistica complessa che include elementi di tipo diverso e nella quale convivono tendenze apparentemente divergenti in un equilibrio peculiare nel definire questa lingua una varietà linguistica si intende sottolineare la sua concretezza storica il suo legame con un periodo e con un contesto storico definito per quanto poco noto la sua chiara e radicata funzione sociale in alcuni interventi di questo seminario tra cui quelli di Molinelli di Zenig di Sor Nicola è stata ricordata la centralità della scrittura e anche della scrittura notarile per queste realtà italiane ed in particolare italiane meridionali e la definizione di questa varietà linguistica di questa lingua delle carte come una varietà linguistica implica anche la possibilità di individuare caratteristiche linguistiche o meglio gruppi cluster di caratteristiche linguistiche che riguardano nel caso specifico la morfologia del verbo la lingua delle carte quale emerge dalla nostra analisi non rappresenta ovviamente un sistema linguistico ma una attualizzazione complessa e stratificata di un sistema linguistico e sembra costituire globalmente una tradizione di discorso altamente specifica dotata dunque di proprie caratteristiche e ripeto fortemente stratificata al suo interno proprio su questa complessità e stratificazione si concentrerà il mio intervento il mio intervento che si che parte da che guarda le carte camensi da un punto di vista della morfologia verbale e sottolineo che negli studi sul latino tardo la morfologia del verbo è di solito considerata come il settore più conservativo quello in cui con maggiore difficoltà si scolgono innovazioni e spostamenti rispetto al latino della tradizione la maggioranza degli studi si sono concentrati sulle aree di maggiore discontinuità il futuro il passivo e in realtà tutto il resto della morfologia è stato considerato come un'area molto poco aperta all'innovazione molto conservativa e questa opinione che vedete per esempio in questa citazione di Herman 1997 tende un po' a ricorrere nella bibliografia vediamo per esempio che Petrucci nel 1990 Petrucci 1994 osserva che anche che anche in testi nei quali osserva che anche in testi nei quali osserviamo fenomeni di tipo volgare o di tipo molto innovativo in campo lessicale sono mantengono una morfologia del verbo estremamente conservativa osservazione simile in Boehmer 1999 e in carte più tardi di Formentina 2012 quindi sembra quasi che questa conservatività della morfologia o questa tendenza della morfologia a non lasciare trasparire delle innovazioni sembri quasi un fenomeno come di lunga durata l'analisi si riguarda come ho detto le carte cadensi del nono secolo e vorrei sottolineare solo alcune caratteristiche del corpus di cui ha parlato già Rosanna Sornicola nonostante la provenienza da un territorio compatto e la loro datazione in un arco di tempo circoscrivibile le carte cadensi del nono secolo costituiscono una realtà non monolitica ma complessa e differenziata da molteplici punti di vista complessità e differenziazione sono per Maria Galante 2017 i due termini che meglio descrivono la raccolta delle carte cadensi i fattori i fattori di differenziazione individuati dagli storici dai paleografi sono molti e notevoli e includono molti elementi anche elementi esterni quindi le grafie le firme la qualità del supporto su cui sono redatti i documenti ma mi limito a commentare brevemente i quattro elementi i quattro punti commentati della slide perché ritorneranno nella discussione che segue i documenti infatti del corpus di cava si riferiscono a tipologie documentarie diverse sono prodotti nell'arco di un secolo tra l'801 e l'899 che costituisce un periodo di tempo circoscritto ma relativamente lungo sono prodotti in luoghi diversi della zona Longobarda di Salerno e qui occorre fare una distinzione che unisce il fattore cronologico è quello relativo ai luoghi della documentazione per marcare una differenza tra documenti redatti in piccoli centri del Salernitano come Rota come Tostazzo soprattutto nel primo trentennio del secolo e documenti redatti nella seconda parte del secolo da notai salernitani ultimo elemento che vorrei ricordare è la presenza di scriventi differenti questa componente individuale è importante sia perché all'interno del gruppo di questi notai professionisti della scrittura è possibile intravedere una stratificazione interna che ha riflessi sulla lingua sia perché è interessante verificare il livello della variazione individuale all'interno di una scritta che ammette una variabilità probabilmente superiore a quella di moderne lingue standardizzate o anche del latino di fasi anteriori la complessità si realizza in primo luogo nella tensione tra continuità e discontinuità nella competizione tra varianti che potremmo definire in prima battuta innovative e conservative a breve vedremo come i termini che ho appena citato continuità discontinuità innovazione conservazione debbano essere fortemente relativizzati e contestualizzati ma vorrei sottolineare è probabilmente una precisazione ovvia ma vorrei precisarlo che è chiaro che queste categorie sono sia pure con difficoltà riconoscibili per l'osservatore ma è molto improbabile che esse siano state riconoscibili in questi termini per gli scriventi dell'epoca questi ultimi dovevano avere a propria disposizione una serie di opzioni eventualmente dotate di un valore stilistico e o di una connotazione sociolinguistica in alcuni aspetti la continuità rispetto al latino di fasi precedenti e la omogeneità la mancanza di variazione le labili tracce di innovazione sembrano interessantemente prevalere e confermare il quadro delineato da diversi studi di una morfologia del latino tardo e medievale scarsamente aperta alla variabilità e all'innovazione questi aspetti di continuità possono apparire meno interessanti però nel momento in cui noi vogliamo andare a definire e andare a caratterizzare questa scritta anche l'individuazione delle aree di maggiore resistenza risulta importante e voglio fare a questo proposito un esempio di continuità che è dato dalle allomorfie tematiche legate all'antica distinzione tra infectum e perfectum e il ruolo della continuità è evidente infatti in molti aspetti anche più minuti quindi dei singoli desinenze che si rivelano particolarmente stabili ma in questo caso noi vediamo una continuità molto forte molto marcata una continuità molto marcata che riguarda sia diciamo la distribuzione degli allomorfi quindi degli allomorfi perfettivi e imperfettivi all'interno della coniugazione sia una forte continuità formale quindi molte volte anche gli allomorfi più irregolari quelli in cui ci aspetteremmo o in teoria ci potremmo aspettare fenomeni di semplificazione massicci in realtà resistono le tracce di innovazione ci sono naturalmente ne ho citate alcune nella slide ci sono delle tracce di innovazione ma l'architettura generale della opposizione tra infectum e perfectum resiste in modo molto evidente e queste continuità così marcate possono essere collegate a fattori di morfologia profonda quindi alla natura morfomica del tema verbale messa in luce da una bibliografia ormai non più così recente quindi in questo caso per esempio questo è un ambito nel quale noi troviamo una forte continuità e troviamo delle labili tracce di troviamo delle tracce di innovazione ma sono in forme fortemente individuabili e alla fine anche numericamente esigue in realtà in altri aspetti in altri domini la morfologia del verbo invece appare contrassegnata da una significativa variazione e ciò si riscontra in particolare nell'area della flessione seppure in misura diversa e con caratteristiche peculiari essa infatti condivide con la morfologia nominale analizzata da Sor Nicola 2017 ma anche in altri lavori uno speccato polimorfismo è un elevato grado di instabilità delle realizzazioni nonostante naturalmente il permanere anche qui di tendenze generali quindi per esempio la dimensione cumulativa delle marche flessive la continuità formale e funzionale di molti tempi verbali quindi in vari punti del paradigma verbale è visibile un notevole polimorfismo e l'occorrenza accanto a varianti che potremmo definire tra virgolette tradizionali varianti di natura diversa tra cui i tipi di variante presenti in questa slide quindi possiamo osservare per esempio varianti che si possono spiegare come effetti sulla flessione di fenomeni di antica datazione soprattutto di ordine grafico fonetico e che appaiono convergenti in tutto o in parte anche con successivi sviluppi romanzi varianti prive di riscontri sia con il latino di fasi anteriori sia anche con le varietà romanze successive invece varianti collegate a tendenze innovative di ordine morfologico e ora nella in questa relazione per l'appunto io mi oggi andrò a vedere alcuni esempi di questi tipi per ciascuno di questo tipo di varianti un primo elemento che il primo tipo di variante può essere individuata al primo tipo di fenomeno può essere esemplificato dalla variazione che riscontriamo nelle desinenze della terza persona del presente indicativo ora guardiamo già in questo prospetto generale delle desinenze del presente indicativo che notiamo un forte polimorfismo cioè notiamo che ciascuna cella in ciascuna cella del paradigma ciascuna cella è realizzata da più in corrispondenza di ciascuna cella troviamo più di una realizzazione quindi vediamo che nel complesso possiamo avere un'idea anche un po' visiva di quello di quello di quello che è il il polimorfismo scusatemi del polimorfismo che abbiamo nella coniugazione del presente indicativo e all'interno di questo polimorfismo ci concentreremo sulla osserveremo la variazione che riscontriamo nella terza persona singolare nelle terminazioni quindi nelle desinenze della terza persona singolare dove vediamo anche in questo caso la presenza di diverse varianti infatti all'interno della della cella della terza persona singolare del presente indicativo è possibile osservare oltre a forme tradizionali varianti legati all'impatto sulle desinenze quindi di tendenze di ordine morfofonologico dotate di una lunga diacronia nella storia del latino il primo di essi è la caduta omissione delle consonanti finali delle desinenze e il secondo che riguarda i lessemi di terza e quarta coniugazione l'evoluzione delle vocali atone in posizione finale quindi possiamo vedere per esempio nella seconda coniugazione accanto a forme del tipo continet troviamo per esempio del tipo continet troviamo continet 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 discernit discerne scusate discerne 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 quindi troviamo uno spettro di variazione ampio collegato a fenomeni di lunga durata infatti ricordiamo che la evoluzione delle consonanti finali delle consonanti in posizione finale è uno dei fenomeni in un certo senso più caratteristici della storia del latino le cui dinamiche di scomparsa sono tuttora oggetto di discussione e che fenomeno che è possibile mettere in relazione con esiti romanzi il rapporto della omissione della in questo caso della dentale finale quale occorre in latino con esiti romanzi è di solito dato un po' per scontato anche se Adams 2013 l'ha problematizzato ponendo la necessità di una considerazione di una riconsiderazione del problema delle consonanti finali nella storia del latino anche la 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 evoluzione delle vocali atone in posizione finale è un fenomeno antico infatti la resa di breve conè è attestata in diverse fasi della storia del latino con valori presumibilmente diversi le terminazioni in es o in et del presente indicativo non attestate in epoca arcaica cominciano a diventare frequenti a partire dal primo secolo dopo cristo e sono testimoniate in particolare ma non esclusivamente dalle iscrizioni pompeiane la frequenza di queste desinenze è tale che adams le definisce comuni nel latino substandard del latino dei primi secoli dopo cristo e come osserva adams le desinenze in e sono suscettibili di diverse interpretazioni ma la spiegazione più semplice è che le forme in e che riflettano una pronuncia aperta di i breve ora in questo caso quindi che cosa ci troviamo? ci troviamo davanti ad una innovazione o ci troviamo davanti ad una conservazione? in realtà probabilmente qui ci troviamo in un campo in cui la memoria del passato e il presagio del futuro come ha detto per utilizzare una espressione che ha utilizzato Rosanna Sornicola nel suo intervento si toccano in cui assistiamo ad una continuità molto forte in cui alla fine la distinzione tra innovazione e conservazione sembra quasi sfumare e un aspetto interessante di questi fenomeni è anche la loro distribuzione sociolinguistica cioè noi se andiamo a guardare se osserviamo le frequenze vediamo che le desinenze con conservazione della dentale finale sono un po' più numerose delle desinenze con prive di questo tratto però se andiamo a guardare per esempio i dati della terza e quarta coniugazione scusate c'è un errore ho messo una coniugazione in più volevo dire ovviamente prima seconda terza e quarta vediamo che i dati della seconda e terza coniugazione qui c'è un errore scusate nel powerpoint in realtà in questi dati noi vediamo che la la variazione è molto intensa quindi le varianti varianti prive di dentale e le varianti con dentale quasi si equivalgono e in questa per la interpretazione di questi dati noi in un certo senso dobbiamo possiamo uscire dalla lingua ed avere in questo modo anche una caratterizzazione per l'appunto di questo tipo di varietà infatti la conservazione della dentale appare un tratto tipico di notai di livello medio alto viceversa le forme prive di dentale si riscontrano in atti di notai provinciali i cosiddetti quelli che appunto Rosanna ha definito notai rustici o di notai salernitani di livello medio e medio basso ma soprattutto caratterizzano questi notai della fase iniziale questi notai che operano in questi piccoli centri del salernitano e se noi guardiamo i dati provenienti da singoli dalle produzioni di singoli notai questo elemento emerge in questi due notai appunto attivi nei piccoli centri di scrittura della zona di Salerno vediamo un uso pressoché sistematico delle forme con omissione della dentale che quindi rappresentano un po' un elemento che va a caratterizzare queste scritture così come nei notai di livello più elevato ritroviamo invece forme con mantenimento della dentale c'è da dire che alcuni notai secondo dinamiche che occorrerà approfondire si comportano in modo hanno dei comportamenti individuali meritevoli di attenzione ma sicuramente possiamo individuare questa caratterizzazione quindi bisogna dire che i notai questi notai diciamo rustici sono quelli che anche nella morfologia nominale sembrano presentare tutta una serie di tratti del latino un po' dimesso di secoli precedenti ora quindi osserviamo questa forte polimorfismo che può essere spiegato in termini sociolinguistici ora vorrei ora passerei al secondo tipo di varianti che in realtà sono una scusate ecco qui ecco qui al secondo tipo di varianti che sono varianti che non trovano un riscontro immediato nel diciamo nel volgare nel lingue romanze quale ci sono note e non trova un riscontro nel latino di fasi anteriori nel caso della morfologia flessiva questa tipologia di fenomeni che è stata notata in altre raccolte in molte altre raccolte e ha avuto diverse interpretazioni voglio ricordare appunto per esempio il lavoro di Maria Francesca Giuliani del 94 comunque è una tipologia di fenomeni che ricorre quindi queste desinenze con queste terminazioni spurie con queste terminazioni in qualche modo anomale queste forme verbali che noi ritroviamo in questi esempi sono del presente congiuntivo queste ma è una tipologia che noi troviamo in un po' in tutta la flessione sono forme costruite con terminazioni consonantiche presenti nel sistema delle desinenze verbali del latino tradizionale ma associate ad altre persone quindi per esempio vediamo esse si concretizzano dunque in fenomeni apparentemente descrivibili in termini di scambi tra desinenze personali o di impieghi devianti di formativi flessivi tradizionalmente associati ad alcuni tempi modi odiatesi lo statuto di queste terminazioni si presenta problematico in particolare con riferimento al parametro della stabilità non è infatti semplice stabilire il confine tra errori del tutto idiosincratici e deviazioni dotate di un certo grado di sistematicità tuttavia quello che emerge dall'analisi della morfologia verbale è che queste desinenze irregolari si concentrino soprattutto in alcuni punti del sistema che sono sedi di ristrutturazioni di carattere morfologico e paradigmatico più ampio un esempio è quello che noi abbiamo nel presente congiuntivo e in particolare qui voglio ho sintetizzato nella slide le terminazioni relative alla terza persona singolare ora all'interno di questa di questo contesto morfologico noi possiamo osservare un notevole polimorfismo anche se in questo caso il polimorfismo ha delle caratteristiche un po' diverse da quelle presenti all'interno del presente indicativo la desinenza in dentale sorda quindi la desinenza abeat che troviamo ad esempio in abeat è infatti in variazione con altri tipi di desinenze una desinenza in occlusiva dentale sonora come eveniad troviamo inoltre desinenze con omissione della dentale quindi parallele a quelle che abbiamo visto per il presente indicativo ad esempio per mania e poi troviamo queste desinenze irregolari che hanno la facies l'apparenza di desinenze quindi corrispondenti alla seconda singolare o alla prima per esempio habeas ora in questi casi noi potremmo per quanto queste non sono sicuramente numerose in termini assoluti le desinenze devianti sono superiori rispetto a quelle osservate nel presente indicativo anche a fronte di un numero di casi potenziali superiori questo elemento ci porta ad ipotizzare che non siano delle varianti del tutto idiosincratiche in questo caso diciamo possiamo ipotizzare che queste desinenze siano per l'appunto in relazione con una ristrutturazione dei valori valori della categoria di persona all'interno del presente congiuntivo poiché sappiamo che nel passaggio dal latino all'italiano abbiamo in questo modo verbale abbiamo per l'appunto una ristrutturazione della esponenza verità vorrei anche in questo caso anche in questo caso e mi avvio anche in questo caso al di là della genesi di queste varianti sulle quali possiamo ritornare eventualmente più avanti nella discussione vorrei anche in questo caso noi abbiamo una distribuzione caratterizzata 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 sulla base della tipologia diciamo di di carte quindi noi vediamo che con una parziale analogia con quanto si è osservato in una pluralità di contesti tra cui il presente indicativo le forme prive di dentale sono selezionate principalmente da notai provinciali e vengono invece evitate da notai più di carattere più elevato questi ultimi però sono quelli che maggiormente utilizzano o la versione o la variante tradizionale oppure queste varianti con consonanti spurie queste varianti risultano presenti in modo sporadico in testi di notai provinciali invece paiono caratterizzare la scritta di notai salernitani a volte anche di livello medio o medio alto l'ultima tipologia di fenomeni su cui vorrei trattenermi il tempo a mia disposizione sta finendo quindi vado brevemente sono invece delle forme verbali per le quali noi possiamo istituire o intravedere una relazione più diretta con il romanzo ora ciò che vorrei sottolineare in queste forme mi limiterò alle forme del verbo possum possiamo vorrei cominciare innanzitutto a notare per esempio la forma posso è chiaramente sembra una forma romanza ma questa forma infatti è interpretata in questo modo per esempio da Bagnar che in un suo intervento in cui si occupa proprio di questa carta definisce questa forma come un ingresso diciamo di volgare nella scritta latina però vediamo che anche questa forma che tra l'altro ha degli scarsissimi riscontri nelle varietà meridionali moderne quali ovviamente le conosciamo è in competizione con la forma poteo in cui si osserva la generalizzazione troviamo una serie di fenomeni che riguardano sia il tema che la desinenza quindi vediamo la generalizzazione del tema pot lo spostamento del verbo possum dalla coniugazione di possum a quella di un composto di sum a quella di verbi di seconda coniugazione lo sviluppo di un tema in e chiaramente assimilabile a quelli di seconda coniugazione e lo sviluppo di una vocale o bene qui vediamo la una forma che in qualche modo è presupposta dalle forme presenti nelle varietà romanze delle varietà romanze del territorio quindi in questo caso mi spiace diciamo citare nuovamente Rosanna Sornicola ma vediamo anche perché in realtà ci sono ho trovato molte cose in comune con la sua relazione notiamo una sorta appunto di liquido amniotico nel quale si trovano diverse varianti che poi hanno una storia evolveranno o avranno una storia nel romanzo che segue quindi hanno una relazione probabilmente con sviluppi successivi ma una relazione probabilmente meno immediata di quello che possiamo immaginare per esempio ripeto troviamo anche in queste forme così fortemente caratterizzate possiamo notare una forma una variazione una realizzazione instabile di categorie morfologiche per quanto riguarda invece le forme brevemente del congiuntivo possiamo vedere anche in questo caso un allontanamento dalla coniugazione tradizionale e un avvicinamento a quello che noi vediamo in sviluppi successivi con sempre invece con la conservazione però delle consonanti finali vorrei quindi concludere con un dire dicendo che nell'area della flessione le relazioni tra formi attribuibili alle diverse celle del paradigma si sono dimostrate dunque in molteplici contesti estremamente instabili all'interno delle singole celle non si osserva solo una relazione flessibile tra forma e proprietà morfosintattica ma sembra di poter notare che ad una stessa cella o a una stessa rappresentazione morfosintattica per dirla con la terminologia di Anderson 1992 potevano corrispondere più regole di realizzazione questo elemento ha delle ripercussioni anche sulle alternanze che è possibile individuare all'interno dei testi globalmente intesi nella maggioranza dei casi non è possibile individuare alternanze regolari e predecibili ed esponenti rigidamente compartimentalizzati e quindi ci si domanda e questa naturalmente è una domanda aperta quindi fino a che punto si possa individuare al di sotto della prassi scritta e della dimensione sintagmatica pragmatica dei testi un sistema di opposizione di riferimento o se piuttosto non ci si trovi davanti ad una lingua che sulla base di una norma instabile che ammetta una pluralità di realizzazioni l'estensore costruisca proprio nella pratica della scrittura su cui ci siamo su cui sono state dette tante cose interessanti in questo seminario grazie per l'attenzione e scusate se mi sono forse dilungata quindi interrompo la condivisione se ci riesco ecco ho colpito grazie Simona grazie di questa relazione in cui hai posto tanti problemi interessanti allora io aprirei il dibattito su entrambe le relazioni le relazioni Rosalba Rosalba di meglio una domanda e una curiosità soprattutto per Maria Francesca Giuliani grazie innanzitutto ad entrambi per queste relazioni molto molto interessanti schiavano dei sforzi importanti sulla cultura dei notari meridionali in particolare e sono molto interessata alle figure dei curiali napoletani e Maria Francesca ha studiato la loro documentazione la documentazione della loro prodotta mi chiedevo studiati dal tuo punto di vista dal punto di vista appunto dell'inglista i curiali che cultura dimostrano una cultura chiusa una cultura piuttosto aperta ricettiva è una mia fissazione perché questi curiali sono dei personaggi molto interessanti infatti li sto studiando quindi mi chiedevo studiati dal punto di vista e la lingua è proprio la loro massima espressione no? e come appaiono? grazie Maria Francesca rispondo subito allora grazie per la domanda molto interessante e molto appassionante ecco ho più volte cercato di diciamo ribadire anche con Rosanna che penso condivida questa impressione l'interesse delle carte napoletane che rimangono diciamo un scoglio importante insomma da affrontare e hanno elementi di grandissimo interesse c'è il problema naturalmente della qualità delle edizioni della mancanza di originali per quanto riguarda le carte dei regini preterani archivi monumenta però diciamo io gentilmente ho fatto riferimento a studi che sono veramente dei sondaggi ho cercato di ribadire ecco l'interesse anche delle carte di San Gregorio Armeno che sono un piccolo gruppo comunque insomma che consente di vedere anche un divenire dunque gruppo chiuso gruppo gruppo aperto con aspetti di chiusura e aspetti di apertura direi questo mi interessa è difficile allontanarsi dall'impressione da come appunto li ha definiti sabatini secondo me in maniera magistrale cioè una scritta semivolgare perché realmente diciamo si ha la sensazione di avere a che fare con i tempi profondamente latini capaci di prolungare una tradizione di caratterizzarsi da parte di una tradizione capaci anche di assorbire in questa tradizione elementi innovativi che riguardano in larghissima misura il lessico cioè ci sono prestiti ci sono anche rapporti tra virgolette diciamo presumibilmente del volgare c'è tantissimo c'è anche un cambiamento ecco per esempio se si confrontano le carte sempre facendo riferimento al fondo di San Gregorio Armino della Mazzoleni edite da Mazzoleni con quelle della Pilone e della Vetere ci sono dei cambiamenti ci sono dei cambiamenti che interessano il lessico io avevo iniziato e poi diciamo purtroppo la diciamo si vorrebbero fare tante cose non è sempre possibile farle però avevo individuato dei possibili normannismi comunque a parte di carattere gallo italico pensando alla possibilità che con i normanni siano arrivati insediamenti diciamo di settentrionali radicati anche nell'agro napoletano e campano insomma ed è uno studio veramente tutto da fare sotto ogni livello direi diciamo che la fase successiva rispetto allo studio delle carte di di cava della campagna lungo barca dovrebbe essere quello della campagna bizantina assolutamente perché poi ci sono differenze naturalmente questo Rosanna l'ha rilevato anche tra Napoli e Amalfi ad esempio grazie grazie quindi continuiamo a parlare magari grazie altri interventi Paolo Paolo Greco eccomi va beh innanzitutto moltissimi complimenti sia a Maria Francesca sia a Simona per delle relazioni appassionanti precise insomma veramente moltissimi moltissimi complimenti eh avevo una piccola domanda per per Simona ehm ti volevo chiedere Simona se tu hai potuto notare per esempio nei notai che presentano variazione ehm se c'è almeno in per esempio nel fenomeno del mantenimento o dell'assenza della dentale per esempio se c'è variazione intranotariale legata a qualche fattore che si è riuscita a ricostruire che ne so per esempio la tipologia documentaria eh quando scrivono un certo tipo di documento scrivono in un certo modo quando invece scrivono un'altra eh tipologia documentaria insomma appunto scrivono in un'altra maniera o se anche non all'interno di eh una variazione intranotariale hai potuto riscontrare una differenziazione per tipologie eh documentarie oppure se invece questa variazione non c'è allora diciamo che eh per quanto riguarda i notai che in realtà eh scrivono tipi di documenti diversi in realtà sono un piccolo gruppo che sono gli autori eh di dei documenti eh più tardi quindi di quei notai che sono autori anche di ehm di testi notarili eh tra virgolette di diritto pubblico io in realtà non ho notato una differenza perché in realtà quello che io ho notato è che questi notai tendono comunque a preservare appunto le dentali e quando non non lo fanno è perché eh lo fanno negli stessi documenti a volte a breve distanza da c'è una variazione anche nello stesso documento redatto dallo stesso notaio proprio perché almeno questa è l'idea che mi sono fatta io e proprio che alla fine ci sono delle tendenze ma c'è un margine di instabilità in qualche modo inerente che che viene mantenuto quindi che non può essere spiegato in maniera in maniera così diretta sulla base di parametri sociolinguistici che sono rilevanti ma d'altronde questo succede anche nelle lingue moderne cioè possiamo identificare delle tendenze ma non delle regole quindi la risposta io penso di di no almeno grazie grazie mille però mi sembrava assolutamente convincente grazie altri interventi forse posso dire anche io qualche cosa sulla relazione di Maria Francesca e su quella di Simona che hanno posto tanti problemi veramente interessanti sul tappeto Maria Francesca io penso che tu con i casi di studio lessicali che ci hai presentato hai fatto vedere mi pare in una maniera esemplare quello che il linguista che lavora su questi documenti può fare con un lavoro veramente certosino minuto anche molto raffinato direi per mettere in atto quel principio che tu hai ricordato all'inizio che è condiviso da vari linguisti storici di una sorta di analisi contrastiva per aree per aree micro regionali o regionali più ampie che si possono investigare e tu pensi questa è una domanda che io ti faccio ed è una cosa che mi piacerebbe molto se potessimo realizzarla per il progetto del nostro PRIN come unità della Federico II secondo che una operazione certo non priva di rischi e davvero complicata però che sarebbe un risultato molto bello sarebbe possibile secondo te una cartografazione una prima cartografazione di un corpus un piccolo insieme di lessemi studiati alla maniera secondo me impeccabile dal punto di vista metodologico che tu hai presentato e certo questo sarebbe un lavoro di lungo periodo perché all'aumentare del numero di lessemi che richiede tutto quel tipo di lavoro che tu hai fatto aumenterebbero i problemi non da ultimo anche di rappresentazione grafica e come tu sai bene questa questione di una cosiddetti atlanti medievali apre molte difficoltà però sarebbe anche suggestiva quindi vorrei sapere che cosa pensi di questo se ti pare una strada utile e percorribile e invece a Simona volevo dire che vabbè noi come potete avere capito con Simona abbiamo avuto varie occasioni di confronto e di collaborazione per cui il fatto che ci siano dei parallelismi tra i risultati evidentemente abbiamo trovato Simona sulla morfologia verbale e a me è capitato di lavorare sulla morfologia nominale mi sembrano molto suggestivi poi alcune di queste cose io le ho sentite dire stasera e mi pare che lei abbia fatto dei passi ulteriori in una sorta di tentativo di tipologia delle varianti morfologiche del verbo vorrei dire però vorrei che tu dicessi qualche altra cosa su una dichiarazione che hai fatto all'inizio e cioè personalmente sono molto d'accordo ma ne vorrei sapere di più quando tu hai detto la lingua delle carte non è un sistema linguistico ma una sua attualizzazione questa attualizzazione presenta come tu hai dimostrato forme multiple le quali non sono in buona misura mi pare di capire correggimi se sbaglio random perché c'è una logica in questa variabilità di struttura mi pare che gli esempi che tu hai fatto quella tripartizione di tipologie di varianti diverse personalmente mi convincono e tu hai detto c'è qualcosa però che sfugge cioè che non è razionalizzabile in qualche modo che cos'altro pensi che si potrebbe fare quindi le mie domande sono due non è la lingua delle carte non è un sistema linguistico ma una sua attualizzazione però è un'attualizzazione molto molto poliforme ok quindi che cosa pensi di questa attualizzazione poliforme dal punto di vista di teoria linguistica come potrebbe essere incasellata domanda molto complicata infatti e l'altra cosa l'altra questione appunto è che cos'altro potremmo fare per trovare una razio delle varianti che non rientrano nella tipologia che tu hai presentato ma allora per quanto riguarda allora per quanto riguarda la scusa Simona vogliamo scusate 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 sì forse prima Maria Francesca allora per quanto riguarda il problema la questione insomma sicuramente accattivante della rappresentazione cartografica è una cosa diciamo con cui ho pensato più volte diciamo e qualche articolo del passato ho maturato soprattutto in riferimento delle situazioni volgare quella del trio nello specifico dei testi del corpuslio è una cosa interessante affascinante non banale diciamo che rappresentare cartograficamente non significa georeferenziare semplicemente sulla base della localizzazione della fonte e quindi sì è una cosa che diciamo mi ha sempre molto interessato e che per non essere pure semplice georeferenziazione andrebbe ben meditata quindi insomma ovviamente riferimento per il luogo qual è? riferimento del luogo in cui è regolata la carta oppure se parliamo di termini di geomorfologia riferenti alla geografia del territorio magari bisogna andare più capilarmente a guardare a cosa fa riferimento il documento a quale territorio questo primo problema cioè come associare l'informazione lessicale al punto linguistico perché naturalmente poi avremmo zone ad alta densità e zone di minore densità questo lo lo implica qualsiasi corpo storico quindi primo problema sarebbe quello di definire un corpo scompatto offri ovviamente una sincronia e cercare sicuramente degli ambiti ecco che meglio si espongono al confronto quindi alla caratterizzazione onomasiologica e cartografica la geomorfologia ecco l'ho citata prima sicuramente penso che sarebbe un settore di interesse penso anche la terminologia formulare del tipo simile a quella che io ho citato che magari è noiosa però è caratterizzante il problema è che cosa rappresenta cioè che cosa rappresenta Trasitum cioè rappresenta un ambito di tradizioni coese una tradizione documentaria pugliese che cosa sia questa Puglia visto che è una Puglia comunque internamente diversificata però ovviamente va chiarito però è diciamo da un'idea di coesione che poi diventa uno strumento di lavoro anche per altri quindi sì diciamo è una via da meditare sicuramente tutti i suoi elementi ma ha un grande valore anche sul piano strumentale e non soltanto per i linguisti secondo me grazie grazie per la domanda sono d'accordo con quello molto d'accordo con quello che hai detto grazie Simona e allora per quanto riguarda la prima domanda diciamo queste che questi documenti non sono un sistema linguistico ma una sua attualizzazione è diciamo è un sicuramente ci possiamo ricollegare al tema delle tradizioni di discorso della delle sì probabilmente mi ricollegherei al tema delle tradizioni di discorso sicuramente possiamo cercare di rintracciare all'interno di questi testi delle relazioni di delle relazioni cioè di tipo in qualche modo strutturale ma senza in qualche modo pensare che questi testi ci offrano quella dimensione di potenzialità che insita nell'idea di sistema non hanno la dimensione della potenzialità secondo me del sistema ma sono delle continue attualizzazioni quindi delle tradizioni di discorso poi riguardo la variabilità in effetti diciamo nella morfologia ci sono tutte una serie di tutti un po' gli approcci basati sul paradigma eccetera tendono comunque a a considerare poco alla fine l'idea di regole tra virgolette variabili nella morfologia quindi non so se in una dimensione più processuale della morfologia quindi meno calata nella dimensione del paradigma si possa trovare una risposta ma in generale per esempio anche del resto degli studi morfologici per esempio ora non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando ma per esempio sul parlato hanno mostrato una variabilità nella flessione per esempio verbale superiore a quella che normalmente è ammessa all'interno di modelli teorici di tipo morfologico dove a ciascuna cella è comunque associata fondamentalmente un elemento grazie vedo che ci sono altri interventi Maria Selig mi vedete? sì ok è molto strano questo formato ok lo provo adesso una piccola domanda a Simona Valentini volevo soltanto sapere se ci sono regole regolarità lessicale se una certa forma appare con diciamo un verbo come avere che appare molto più frequentemente di non lo so gli altri non mi ricordo allora sì allora sicuramente io diciamo nella relazione di oggi ho dovuto un po' stringere su una serie di ulteriori regolarità per esempio nelle ci sono sicuramente alcuni verbi per esempio che sono estremamente conservativi faccio l'esempio per esempio del verbo sum che per esempio è un verbo estremamente conservativo in tutte le sue forme per quanto riguarda avere diciamo risulta in qualche modo risultano alcune forme del tipo abet che infatti non ho considerato nelle statistiche all'interno di formule per esempio del tipo abet fine dove abet mantiene sempre la dentale diciamo ho un po' riassunto i risultati per per la relazione ma sicuramente ci sono delle specificità lessicali in questo senso quindi sì sicuramente per esempio il paradigma del verbo sum è proprio un esempio di estrema conservatività dove anche i fenomeni che da un punto di vista fonetico fonologico sarebbero più banali di fatto non compaiono ecco ecco c'è un intervento di Pierluigi 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 Pizzolin Sì grazie ho una domanda sia per Maria Francesca Giuliani sia per Simona Valente molto rapide sarei interessato a sapere qualcosa di più sulla sinoria del greco perché mi pare che abbia un confronto possibile solo se non capisco male almeno dal punto di vista etimologico con finaita e quella parte di lessico dove c'è la parola finis con fine di mezzo per il resto mi sembra che ci sia un po' una localizzazione dei termini greco e latino vanno un po' per strade loro a meno che non si voglia vedere appunto qualcosa di affine tra finaita e affini e finoria e affini questa è la domanda che volevo fare a Maria Francesca Giuliani per Simona Valente invece volevo dire solo questo sono stato preceduto da qualcuno che ha posto più o meno quello ha detto già quello in parte che volevo dire anch'io cioè è possibile quando uno legge questi documenti la prima impressione che ha è quella del caos totale poi vede che in realtà ci sono anche delle regolarità che dipendono ed è questo il primo punto su cui volevo sapere qualcosa di più dipendono anche dalle parti del testo non tutto il testo ha la stessa lingua ci sono parti più formulari altre meno formulari dove quindi c'è più libertà per così dire qualche regolarità la si può notare forse anche a livello sistemico e questa è l'altra domanda ci sono delle dei paralleli in altri settori del verbo mi chiedo per esempio è un esempio lontano ma solo spero possa far capire quello a cui penso nei dialetti del lombardi sono insomma ho vissuto a lungo in due zone quindi sono abbastanza non dico esperto ma li conosco li capisco posso anche parlarli quello brianzolo che è vicino simile ma non appartiene all'area del milanese quello dei dialetti oltre padani già più simili all'emiliano in tutti questi dialetti il riflessivo si viene applicato a tutte le forme del verbo ecco i riflessi si possono notare fenomeni di sistemicità con forme apparentemente strane quando mi riferisco alla regolarità penso per esempio alle forme citate possam possamus eccetera dove mi pare di riconoscere che la A veniva identificata forse come segno di congiuntivo indipendentemente dal fatto che poi e questo mi fa venire in mente visto che quando ho letto le carte ho prestato più attenzione poi al parlato in Italia mi fa venire in mente che la A molto spesso è associata all'imperfetto da parte di parlanti di italiano i quali arrivano a dire forme come quella che ho sentito e che si sente più volte dormavamo invece che dormivamo perché la A è associata alla forma di imperfetto ecco in sintesi è possibile trovare nei documenti aree dove questi fenomeni si differenziano e è possibile trovare in queste aree rapporti sistemici come quello l'ho buttato liberamente a caso nel senso che non so se sia pertinente l'uso del del si passivante o del si impersonale con queste forme verbali non so se sono stato chiaro comunque se ci sono nella nelle diverse parti della morfologia verbale cose che apparentemente sembrano lontane ma che in realtà si collegano poi se guardate in modo sistemico grazie cominciò io allora per quanto riguarda non ho capito benissimo in realtà cosa a cosa si faceva riferimento per quanto riguarda finalità e sieneri allora io volevo dire semplicemente che nel modo in cui compaiono nel documento i documenti calabresi hanno una una sistema di occorrenza diciamo comparabile anche nel tipo di unità che definiscono nel senso che finaita e finis anche viene ad essere utilizzata nei documenti latini di area calabrese per indicare appunto un lungo confine che alla fine è un confine che appartiene a qualcuno in particolare quindi a volte sembra diciamo distinguere una circoscrizione quindi un territorio confinato di cui si possono tracciare più confini e nella stessa maniera sionoria si utilizza sia e su sionoreasmos anche periori periori asmos sono tutti termini che si ritrovano nelle carte greche insomma di area soprattutto calabrese e anche siciliana per definire appunto il singolo confine un confine ovviamente che va immaginato come una lunghezza insomma un margine che si estende sul nel quadro del territorio che alla fine è un territorio di pertinenza di una specifica località o proprietà quindi in questo senso si assomigliano e si assomigliano ovviamente sono stata un po' veloce e rapida per portare avanti per chiudere per diciamo focalizzare il discorso soltanto su alcuni elementi ecco in realtà dal punto di vista della struttura lessicale il termine che forse meglio riproduce il concetto di siunoria del greco è il confinium che si ritrova nelle carte latine calabresi ed è precisamente la circoscrizione infatti si ritrova in riferimento ad alcuni toponimi in particolare e allora in quel caso il sistema della confinium è quello della finaita cioè il confinium sta alla signoria come il signorion sta alla alla finaita o alla finis in questo senso ovviamente poi sullo sfondo ci sono tante letture diciamo degli storici dei diplomatisti di quello che ha scritto Guiù per esempio sui documenti di Santa Maria di Messina insomma in cui analizza questo tipo di terminologia politico giuridico economica ecco fondamentalmente in finaita c'è un'idea appunto giuridico economica del confino del territorio confinato che diciamo si discossa naturalmente dall'idea molto rurale del confine lungo basso non so se ho risposto alla domanda grazie mille allora per quanto riguarda diciamo il discorso del sistema non mi vorrei eccessivamente cioè nel senso io ho proposto una idea che mi ero fatta ma allora io non credo che queste che in queste carte ci sia una variazione random quindi io credo che all'interno di queste carte possano essere individuate dei paradigmi e delle relazioni tra elementi però in questo senso non possiamo eh pensare né che questi paradigmi siano completi perché comunque sono abbiamo alcune forme ma altre non le abbiamo alcune eh che ci sarebbero potute essere non le abbiamo non possiamo abbiamo una parte di questo sistema quindi è assolutamente una parzialità nella quale possiamo individuare dei rapporti e di questi rapporti possono rimandare anche ad altri rapporti ma sono innanzitutto dei rapporti che noi ritroviamo all'interno di quei testi quindi io non sono penso che ci siano assolutamente delle regolarità e in queste regolarità rientrano ad esempio anche quelle aree che ho detto nelle quali noi troviamo più in cui noi troviamo a volte per esempio questo l'ha mostrato Maria Francesca nel suo articolo del 94 in cui noi abbiamo delle aree che in qualche modo ehm si prestano ad un a delle reazioni in un qualche modo ehm per esempio nel caso del congiuntivo noi abbiamo un sistema diciamo di terminazioni del singolare che appare in crisi cioè il sistema tradizionale appare in crisi e viene in un certo senso questa crisi viene ehm da un lato abbiamo questi notai che diciamo che utilizzano una forma tra virgolette questa forma più ehm rustica e dall'altra abbiamo questi notai invece di livello più alto che reagiscono a questa crisi in in altro modo quindi noi possiamo individuare anche delle aree che sono delle aree come di debolezza nelle quali questa innovazione si eh fa largo io ho questa impressione ehm e quindi eh possiamo individuare in queste aree dei riflessi indiretti io penso di sì per esempio cioè non è escluso che per esempio dietro questo tanto questo polimorfismo che noi troviamo nel presente congiuntivo ci sia una ehm ristrutturazione della delle persone del singolare dove in effetti eh noi troviamo un sincretismo più tardo che era che era assolutamente evitato dalla coniugazione latina ehm quindi questo è parti libere e parti formulari ci sono delle differenze tra le parti libere e le parti formulari però ehm queste differenze almeno nell'anno in questi aspetti molto minuti della flessione eh in qualche modo non sono dirimenti a volte infatti noi troviamo all'interno delle parti cosiddette libere parti cosiddette formulari lo stesso tipo di variazione cioè per esempio quando si tratta di piccole desinenze di eh piccoli tratti noi anche all'interno delle formule noi possiamo trovare delle oscillazioni molto simili a quelli in cui noi troviamo che troviamo nelle cosiddette parti libere fermo restando che alcune alcuni campi faccio l'esempio dei deponenti sono fondamentalmente si ritrovano soprattutto nelle formule alcune parti del sistema verbale che sono delle parti eh diciamo che sono in cui la crisi è molto avanzata quindi per esempio i deponenti si ritrovano quasi esclusivamente nelle formule e ci sono un paio di notai che sono in grado di utilizzare i deponenti in modo un po' meno ehm diciamo meno formulare grazie mille grazie non vedo altri interventi altre richieste di intervento eh giusto e allora allora facciamo dieci minuti di pausa prima di passare alla seconda sezione eh grazie grazie alle relatrici e grazie a chi è intervenuto grazie a tra poco relazioni ehm che si concentreranno maggiormente sull'aspetto documentario su alcuni documenti dell'area di nostro interesse della lungobardia minor la prima relazione del dottor Stefano Manganaro eh attualmente a sinistra di ricerca presso l'Università eh di Pisa ma la cui attività di ricerca è veramente molto ampia dopo un dottorato di ricerca presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane ehm ha svolto attività di ricerca presso l'Istituto Italiano eh di studi storici l'Istituto Croce ehm presso il Max Plaxy Istitut presso l'Istituto Germanico di Roma ehm ehm ha portato così a termine delle ricerche eh eh hanno manifestato poi il frutto più maturo in una monografia eh pubblicata dal Molino nel 2018 eh una monografia che eh la cui eh originalità gli ha valso il premio eh Giuseppe Galasso della eh eh patrocinato dalla biblioteca della società napoletana di storia patria eh questa monografia eh di cui Stefano Manganaro è autore ha un titolo già dal titolo è molto significativo ehm stabilita stregni percezione del tempo e durata dell'azione politica nell'età degli ottoni e capite subito dal dal titolo che si tratta di una vera e propria sfida che eh Stefano Manganaro ha lanciato all'epoca degli ottoni ehm dei re che sicuramente sono itineranti che si sforzano in tutti i modi per affermare la stabilità serenni no del proprio potere cioè la stabilità del potere attraverso una serie di strumenti di cui e analizzando fonti di carattere documentario ehm narrativo ehm ovviamente ehm ovviamente eh anche anche di carattere storico religioso ehm Manganaro ha ha sottolineato i significati antropologici e religiosi e le implicazioni istituzionali connesse alla alla percezione del tempo in epoca ottoniana e quanto gli autori di queste fonti fossero consapevoli poi del divenire storico e della complessità del divenire storico ehm dopo il premio ehm appunto attribuito a questa monografia dalla società napoletana di Sera Patria è stato anche ricercatore presso la stessa società napoletana di Sera Patria e ehm in quella sede ha avviato un'attività ehm di ricerca su Pandolfo Capodiferro come capite un'attività eh di ricerca veramente intensa che poi l'ha portato infatti a conseguire l'abilitazione scientifica professore di seconda fascia qualche qualche mese fa ehm ehm stasera ci parlerà proprio di di questa attività ehm di ricerca ehm di ricerca eh nata grazie alla borsa della di ricerca della di ricerca della storia patria su Pandolfo Capodiferro quindi sono risultati del tutto originali che se non erro Stefano non ha mai pubblicato quindi lo ringraziamo soprattutto per questo e ehm quindi la sua relazione si intitola Pandolfo primo capodiferro e sui diplomi potere scrittura in una macro regione strategica nell'età degli ottoni quindi gli lascio la parola e sono veramente curiosa di ascoltarlo grazie Stefano grazie ringrazio la professoressa Di Meglio e ringrazio tutti voi per l'invito cordiale che mi avete rivolto e che mi onora vediamo ecco qua non so se si vede correttamente sì possiamo metterlo a modello esatto perfetto a parte che in realtà ci servirà credo più avanti quindi forse eh forse chiedo scusa eh? ero qua conosciuta superficialmente e mai davvero approfondita dalla stereografia l'esperienza politica di Pandolfo primo capodiferro costituisce una pagina significativa della storia del mezzogiorno continentale e allo stesso tempo corrisponde a una stagione importante della presenza dell'impero romano germanico in Italia esponente di primo piano della dinastia capuana Pandolfo primo capodiferro esercitò per quasi 40 anni il proprio dominio su capo e benevento dal 943 al 981 governando in associazione da prima al padre Landolfo secondo poi al fratello Landolfo terzo infine al figlio Landolfo quarto sebbene la sua azione da principe diciamo di primo rango cioè non solo come correggente associato al trono si dispieghi su un intervallo temporale più limitato di vent'anni dal 961 al 981 la sua esperienza politica si innestava su quella inaugurata da Atenolfo che nell'anno 200 va riunito capo e benevento ma rispetto a quell'operazione Pandolfo riuscì ad andare oltre aggregando anche Salerno e riunendo così l'intera Italia meridionale Longobarda sotto un unico vertice principesco cruciale si rivelò poi il suo rapporto con l'impero romano germanico Ottone primo affidò a Pandolfo l'ampia circoscrizione del regno italico corrispondente al ducato di Spoleto alla marca di Camerino e ciò estese evidentemente di molto e ben al di là dei confini capuano beneventani lo spazio di azione del capo di ferro entro cui venne a gravitare indirettamente anche Roma poiché egli era incaricato di assicurare protezione ai papi filo ottoniani insidiati da settori della risocrazia cittadina il rapporto con l'impero continuò anche sotto Ottone II quando la regione marsicana e quella salernitana entrambe governate da Pandolfo anche se con un profilo istituzionale diverso in un caso da dinastra e nell'altro caso da funzionario e imperiale furono individuate come vasi strategiche per la campagna militare intrapresa da Ottone II nell'Italia meridionale una campagna che si concluse con la disfatta di Columna Regia dove accanto al fiore della cavalleria teutonica così recitano le fonti trovarono alla morte due figli e successori del capo di ferro cioè l'Andolfo IV di Capo Benevento e Pandolfo II di Salerno una conferma eloquente direi del supporto fornito dalla famiglia principesca agli Ottoni più in generale si può dire che Pandolfo I Capo di Ferro per la sua compagine politica composita si rivelarono un decisivo fattore di stabilizzazione di medio-lunga durata per l'impero in Italia nel secolo X alla compagine pandolfina va riconosciuta una valenza geopolitica di grande rilievo strategico incentrata su Capua la dominazione del Capo di Ferro si impiantava su un'area compresa tra Fermo e il Cilento un'area che univa l'Adriatico centrale al terreno meridionale un'area mai aggregata prima di allora e mai connessa all'impero romano-germanico tanto più che ciò accadde con il sostegno della sede apostolica che come noto in futuro sarebbe stata assai meno incline nel giudicare favorevolmente i legami tra impero e Italia meridionale il sostegno papale si concretizzò in particolare nella nota decisione di Giovanni XIII di elevare a sedia arcivescovilli Capua Benevento nel 1966 e 69 ma non sempre si è riflettuto sulle implicazioni geopolitiche di scala nettamente sovra regionale di queste due elevazioni Capua Benevento ricadevano infatti nella fascia orientale del continente europeo laddove collidevano le sfere di influenza della chiesa di Roma e del patriarcato di Costantinopoli come pure quelle dei due imperi Questa fascia si snodava per circa 2000 chilometri da Magdeburgo nella fredda Sassonia fino alle calde acque mediterranee di Otranto due città Magdeburgo e Otranto anch'esse non a caso elevate da arcidiocesi nel medesimo torno di anni 967 e 968 per volontà rispettivamente di Ottone I e di Niceforo Foca Nel contesto di questa competizione tra le due chiese e i due imperi si collocano anche le istituzioni di poco successive da parte bizantina della sede metropolitana di Kiev e per tornare al meridione d'Italia dell'arcidiocesi di Taranto di Trani, di Brindisi mentre da parte latina fu elevata a sede Arcivescovile anche la terza capitale Longobarda Salerno Queste riflessioni chiariscono almeno in parte perché nel titolo ho adottato l'espressione di macro-regione strategica vi sarebbero poi altre ragioni ma su cui sorvolo Adesso è importante dire che il cuore di questa macro-regione era il principato di Capo Benevento e fonte privilegiata per lo studio delle sue dinamiche politiche sono i diplomi di Pandolfo I Capo di Ferro Nella mia relazione considererò pariamenti tanto i diplomi rilasciati da questo principe in qualità di semplice correggente associato al trono paterno negli anni 943-961 quanto quelli emessi una volta che Pandolfo I raggiunse la posizione di principe diciamo di primo rango negli anni 961-981 i diplomi traditi sono complessivamente 38 21 ci sono giunti in originale 19 dei quali sono custoditi presso l'archivio dell'Abbazia di Monte Cassino gli altri due si trovano presso la biblioteca capitolare di Benevento ancora all'inizio del Novecento erano reperibili altri due originali uno presso l'archivio capitolare di Isernia l'altro all'archivio di Stato di Napoli ma di essi si è nel frattempo per una traccia i restanti 17 diplomi sono invece trasmessi in copia nel Cronicon Vulturnense nel Cronicon Sancte Sofie e nel Registrum di Pietro Diacono mentre alcuni pezzi sono sopravvissuti grazie a trascrizione di età moderna è opportuno segnalare che solo poco più della metà dei diplomi traditi in originale sono stati oggetto di un'edizione critica condotta secondo criteri contemporanei mentre l'altra metà di questi diplomi trasmessi in originale è disponibile solo per questi diplomi è disponibile solo un'edizione settecentesca delle accessiones di Dom Erasmo Gattola manca insomma un'edizione critica dei diplomi di Pandolfo I Capodifermo che sia complessiva aggiornata e immediatamente disponibile in un'unica sede editoriale e forse ciò ha contribuito all'attenzione piuttosto tangenziale che finora queste fonti hanno ricevuto dalla stereografia a ciò si aggiunga che molte delle considerazioni che seguiranno dovranno tenere conto della distorsione fatalmente determinata dalle forme di conservazione di tradizioni di documenti che nel caso dei diplomi di Pandolfo Capodifermo appare particolarmente pronunciata come deformazione si consideri per esempio che l'abbazia di Monte Cassino ha conservato 19 diplomi dei 38 complessivi quindi pari al 50% del totale di quelli traditi mentre non c'è noto nessun documento di questo principe per la chiesa di Capua e si è conservato solo un diploma per la chiesa di Benevento fatte queste premesse si può cominciare ricordando che dopo il 774 Rechi II inaugurò diverse forme di comunicazione simbolica conformi al nuovo rango di Princeps il rituale di unzione l'incoronazione nuove coniezioni di monete di aure ma non mutò le forme della tradizione della documentazione pubblica queste ultime restarono saldamente ancorate alla tradizione della carta Longobarda decisamente meno solenne rispetto ai coevi diplomi carolingi solo dopo l'elevazione di Atenolfo principe di Capo e Benevento nell'anno nel 1900 si assistette a quello che Herbert Zielinski ha giudicato come il caso più eclatante di trasformazione delle forme grafiche e della documentazione pubblica quale esito diretto di un cambiamento politico istituzionale fu infatti con l'ascesa della dinastia capuana al principio del secolo X che fece la sua comparsa cioè il documento solenne dei principi di Capo Benevento e sono risentite l'influsso di tre tradizioni grafiche quella Longobarda quella bizantina e quella franca quest'ultima mediata soprattutto dai diplomi imperiali di Ludovico II e da quelli dei re italici della dinastia spoletina Guido e Lamberto i diplomi di Pandolfo Capo di Ferro e dei Correggenti si pongono su un piano di sostanziale continuità rispetto alle forme grafiche elaborate negli anni di Atenolfo I elementi peculiari sono di questi diplomi sono banalmente una chiara strutturazione del documento secondo la tripartizione protocollo testo e scatocollo alla quale si accompagna una precisa resa visiva della pergamina solenne determinata dalla collocazione del sigillo in posizione centrale o semicentrale all'interno della terza sezione quella inferiore del documento la struttura il layout l'organizzazione dello spazio sono tutti aspetti largamente esemplati sul diploma carolingio e ottoniano queste immagini credo che in qualche modo restituiscano quello che sto dicendo si registra l'uso di una elegante scrittura beneventana dalle lunghe aste e poi noi notiamo i questo sono esempi della beneventana ma vi notiamo anche l'uso di caratteri cancellereschi allungati che era estraneo agli usi beneventani antecedenti al secolo decimo caratteri che hanno le aste lunghe delle lettere DHL pendenti a destra nei diplomi prodotti a capua e questo è un esempio mentre sono dritte nei diplomi prodotti a benevento l'uso dei caratteri allungato è adottato in solo due punti del documento il primo rigo e poi quella parte di escatocollo chiamata signunzaile riguardo al primo rigo esso include l'invocazio l'intitulazio e la renga ognuna di queste tre parti è separata dall'altra per mezzo di un asterisco nei diplomi capuani qua purtroppo si vede un po' male lo troverò eccolo no scusate ho perduto il diploma si vede un po' male qui ma se poi nella discussione vorrete vi farò vedere altre foto disponibili e invece da tre virgore diciamo sovrapposte nei diplomi beneventani in tutti però si osserva una sclerotizzata standardizzazione della renga che è sempre uguale ed è sempre tronca e recita cum principalis eccellenzia petizione di lecti sui petentis clementer favet oppure della variante cum principali eccellenzia petizionibus di lectorum suorum omnibus juste petentibus clementer favet in questi diplomi è sempre assente la recognizio ed è sostituita da una schreiber formel e invece nel testo si rileva una sostanziale assenza di riferimenti a concetti politico-religiosi come per esempio la stabilitas regni invece ben presenti nei diplomi imperiali coevi in quanto la liberalità dei principi è messa in relazione all'amore di dio alla salvezza dell'anima e unica eccezione costituita da alcuni diplomi redatti esclusivamente a Benevento che quindi aveva diciamo un dettato proprio nei quali tra le motivazioni che spiegano le generosità dei principi è talora aggiunto la salvazio regni scritta salvaccio regni con betacismo peraltro molto frequente nell'essico di questi diplomi meritano poi un'attenzione particolare tre elementi del documento a cui era connessa la funzione performativa del diploma cioè la funzione assolta dal documento non tanto in forza dei suoi contenuti giuridici ma in quanto pergamena solenne dotata di una sua sacertà una pergamena che nella sua stessa materialità incorporava e al tempo stesso rendeva ostensibile la relazione qualificata tra emittente e destinatario questi tre elementi sono innanzitutto la sia coiz eccola o croce decorata che è legata alla tradizione iconografica longobarda ed è preferita il crismon che invece è adottato sistematicamente nei diplomi carolingi e ottoniani e si è presente in due forme grafiche questa eccola qua sia entrambi le depositive che sto proponendo è quella beneventana invece la forma grafica iconografica capuana è questa diciamo tra i documenti a cui era connessa la funzione performativa la zio coiz poi il monogramma del principe eccolo che è connotato da tre peculiarità in ordine alla forma al colore e al numero di monogrammi presenti quanto alla forma i diplomi di pandolfo capo di forma mostrano un monogramma cruciforme con la lettera o al centro la forma croce è preferita al monogramma cassa che invece è adottato sistematicamente nei coeli diplomi ottoniani ancora di più colpisce il colore il monogramma dei principi di capo benevento era vergato in inchiostro nero ma poi sovrascritto con il colore rosso e si trattava di un'espressione particolarmente audace di imitazio imperico stantinopolitani dal momento che gli autocrati bizantini reclamavano come propria prerogativa esclusiva l'uso della porpora del colore rosso attributi dell'autorità universale gli ottoni negli stessi anni non osarono mai appropriarsi di questa simbolica mentre la scelta differente compiuta dai principi di capo benevento manifesta in modo eloquente direi fin anche eclatante la loro ambiziosissima autocoscienza terza e ultima peculiarità dei monogrammi dei diplomi di pandolfo capo di ferro è la presenza seppur occasionale ma ne ho questo è un esempio che vi sto propone è uno degli esempi che possiamo proporre di ben due monogrammi nello stesso documento uno per ciascun principe correggente era questo un modo del tutto singolare per manifestare l'adozione da parte dei principi di capo benevento dell'associazione al trono cioè di un modello istituzionale tipicamente bizantino che però proprio all'inizio del secolo decimo fu ricepito tanto nel regno italico quanto nell'Italia meridionale non gobarda la pratica poi dell'associazione al trono si riverberava soprattutto nell'altro segno di autenticazione del diploma il terzo degli elementi prima accennati cioè il sigillo in cera come rivelano i sigilli ancora conservati a Monte Cassino nei diplomi di pandolfo capo di ferro essi mostrano il volto barbuto dei due principi ritratti frontalmente intorno al loro effigie corre l'iscrizione per esteso dei loro nomi vediamo per esempio sulla sinistra Paldolfi Landolfi Principum e tra l'altro sia nei diplomi sia nei sigilli Pandolfo non è mai Pandolfo ma è Paldolfo quindi dicevo intorno al loro effigie corre l'iscrizione per esteso dei loro nomi e del titolo principesco da entrambi condiviso sul verso è impresso invece il monogramma del principe di primo rango solo di uno di due che però è integrato da una leggenda che corre lungo tutto il margine del sigillo dove sono invece riportati il nome del correggente e il comune titolo principesco nessuno dei tre elementi appena ricordati cioè la Tsiacoiz il monogramma cruciforme rosso e talora doppio il sigillo con l'effigie di entrambi i principi si ritrova nei coevi diplomi ottoniani neanche dopo la scelta dei re imperatori sassini di ricorrere anch'essi all'associazione al trono gli ottoni ammisero piuttosto la possibilità negli stessi anni di sdoppiare la cancelleria cioè l'ottone primo continuò a rilasciare diplomi in completa autonomia dal figlio associato al trono ottone secondo ma quest'ultimo a sua volta poteva emettere parallelamente e lo fece in modo in realtà sporadico ma significativo diplomi esclusivamente a proprio nome non si trattava come si potrà notare di una scelta che intendeva imporre in risalto la coabitazione al vertice del padre e del figlio al contrario essa poneva enfasi sull'azione reciprocamente autonoma dei due sovrani associati al trono non così a capo benevento negli stessi anni lo dimostrano i sigilli lo abbiamo appena visto il doppio monogramma anche ma anche la formula dell'intitulazio dove sempre sistematicamente sono menzionati entrambi i principi per esempio in genere è così l'intitulazio Paldolfus et Landolfus divina ordinante providenzia Langobardorum Gentis Principes il confronto tra i diplomi di Pandolfo Capodiferro e quelli regi imperiali coevi rilasciati proprio negli stessi anni da Ottone I può continuare a rivelarsi prezioso per individuare e mettere in luce altre peculiarità del panorama politico istituzionale di Capo a Benevento si può allora considerare che se la maggioranza dei diplomi di Pandolfo Capodiferro fu rilasciata enti religiosi come era con suetudine e poi come anche non potrebbe essere anche diversamente proprio per le forme di conservazione degli stessi non mancarono affatto tra i destinatari i fideles laici per lo più conto i gastaldi imparentati con la famiglia principesca i diplomi concessi a questa tipologia di destinatari 4 sui complessivi 38 rappresentano più del 10% del totale nei coevi diplomi imperiali questa tipologia di destinatari è minore in percentuale perché più in netta è la preponderanza degli enti religiosi ma è soprattutto nei petenti intervenienti che emerge il ruolo tutt'altro che sussidiario giocato dall'elemento aristocratico laico nelle dinamiche politiche del principato di Capo Benevento solo in 6 diplomi di Pandolfo Capodiferro i petenti intervenienti sono ecclesiastici mentre petenti intervenienti laici compaiono in ben 28 diplomi circa il 75% dei casi tra costoro un posto privilegiato è occupato dalle principesse Gemma e Alohara rispettivamente nonna e moglie del Capodiferro le quali intervengono rispettivamente in 5 e in 2 diplomi se questo dato relativo alle principesse e alla loro intercessione riflette il più generale protagonismo delle donne di potere del secolo X e come tale ben registrato anche nei coevi diplomi ottoniani con gli interventi di Adelaide di Teofano ed anche delle grandi badesse diciamo di Germania restano del tutto privi di paralleli nella documentazione cancelleresca di altri poetieri coevi i ben 21 diplomi del Capodiferro 21 su un totale di 38 rilasciati su petizio o per intervento di altri laici cedilaici che non sono le principesse nel caso di Capo Benevento si tratta quasi sempre di personalità imparentate col vertice principesco come dimostrano l'onomastica si chiamano Pandolfi Dandolfi Atenolfi e le qualifiche variamente attestate di Barbanus che è equivalente a Patrus Frater anche nell'accezione di Cugino Filius con ciò non si vuole affatto negare il convinto sostegno politico assicurato dal Capodiferro ai grandi enti religiosi ho già ricordato il numero oltremodo cospicuo dei diplomi ottenuti da Monte Cassino e segnatamente dalla Batea Ligerno si può inoltre aggiungere che quest'ultimo non si limitò affatto a quella che almeno nei territori imperiali può essere considerata come la prassi più garantista adottata dagli enti religiosi più zelanti i quali cercavano di ottenere un diploma a ogni cambio del vertice regio cioè ogni morto del re ed eventualmente se proprio volevano essere particolarmente zelanti a ogni cambio del vertice abbaziale cioè ogni volta che moriva l'abate negli anni di Pandolfo Capodiferro a Ligerno si spinse ben oltre ottenendo un nuovo diploma per ogni nuova concessione da lui guadagnata anche minima inoltre in almeno due occasioni si fece rilasciare contestualmente al diploma con la nuova concessione anche un secondo diploma principesco che semplicemente confermava e ricapitolava peraltro con estrema analiticità e dettaglio tutti i beni e i diritti ottenuti in passato dall'abazia cassilese diciamo è un caso che non si vede per esempio sui diplomi imperiali assolutamente sarebbe impensabile lungi quindi dal voler sminuire il protagonismo politico degli enti religiosi nel principato del Capodiferro si segnala tuttavia che a capo a Benevento più che altrove certo più che in area imperiale e intendo sempre regno nordalpino teutonico e anche regno italico le personalità e gli ambienti laicali giocarono un ruolo particolarmente importante nella rete delle relazioni politiche tessute dal e con il vertice principesco relazioni poi testimoniate e recepite dalla documentazione cancelleresca a questo riguardo non si può escludere nemmeno un coinvolgimento di elementi laici tra gli scribe palazzi i professionisti della scrittura direttamente coinvolti nel processo genetico del documento cancelleresco i diplomi di Pandolfo Capodiferro furono redatti da una cerchia estremamente ristretta i soli quattro notari presso il palazzo di Benevento erano attivi e lo erano solo a Benevento Madelfrid e Adel Marius i quali si autodefiniscono rispettivamente Clericus et Notarius atque scriba uno e l'altro Clericus et scriba costoro erano dunque ecclesiastici non vi è dubbio presso il palazzo di Capua erano attivi e anche qui in modo esclusivo cioè solo presso il palazzo di Capua Petrus e Adelchisi Petrus è nettamente il più prolifico tra i notai di corte di Pandolfo Capodiferro egli prese parte la redazione di ben 19 diplomi dei 38 trasmessi giunti fino a noi ed egli si definisce semplicemente Notarius Adelchisi si definisce semplicemente Scriba questo dettaglio cioè nessuno di due quindi a differenza dei colleghi di Beneventani adotta la qualifica di Clericus questo dettaglio unito al tenore generalmente meno sostenuto e all'essico generalmente meno aulico del dettato dei diplomi Capuani rispetto a quelli Beneventani induce a non escludere una condizione laicale per gli scribe palazzi Capuani una maggiore precisione a riguardo non è possibile perché non è stata possibile un'identificazione analoga a quella operata da Wolfgang Hushner per i redattori e i dettatori dei coevi diplomi ottoniani infatti dietro a quegli scrivi della cancelleria imperiale un tempo indicati con sigle convenzionali come se si trattasse di uno stuolo di notai anonimi al servizio della burocrazia imperiale Hushner ha individuato dietro a queste sigle personalità di vertice come lui tu prendo di Cremona Umberto di Parma Odiloni di Cluniger Alberto d'Origiac mostrando bene come la cancelleria imperiale non fosse affatto un apparato burocratico amministrativo ma fosse piuttosto un ambiente un ambiente elitario animato da figure di alto rango tutte ecclesiastiche o monastiche dotate di eccezionali competenze grafiche scrittorie e solitamente attive presso la cancelleria ottoniana solo per un limitato periodo di tempo quindi con una grande turnazione e ricambio del personale di cancelleria che cosa si può dire al riguardo per le cancellerie dei palazzi a di Pandolfo Capodiferro beh direi che l'unico elemento comune con la coeva cancelleria ottoniana cioè la cancelleria imperiale degli stessi anni mi pare rintracciabile solo nell'assenza di un apparato burocratico amministrativo altamente organizzato neanche per capo o per benevento si può parlare di uno stuolo dei notai che operava secondo una catena di comando cara diciamo alla storiografia impronta giuridico positivista è più probabile ritenere che il redattore dei 38 diplomi pandolfini fossero davvero solo i 4 scribe palazzi sopra ricordati affiancati al più da pochi altri colleghi di cui magari non è rimasta traccia ma il loro numero doveva essere comunque molto ridotto tanto più che i diplomi di pandolfo capodiferro non menzionano mai il referendario figura invece attestata e anche in modo importante nei documenti beneventani dell'età ducale ciò significa insomma che il processo genetico del documento principesco previde il coinvolgimento di un numero estremamente ridotto di professionisti della scrittura questo elemento segna una prima significativa differenza con i coevi diplomi imperiali ottoniani una seconda differenza riguarda l'iper specializzazione di scribe palazzi rispetto a invece i notari attivi nei stessi anni presso la cancelleria imperiale a fronte probabilmente di un livello culturale complessivo un orizzonte culturale complessivo più modesto per i notai capuano beneventani di questa iper specializzazione espia un documento rilasciato da pandolfo di ferro per siglare un patto di tregua sebbene si trattasse di un documento del tutto simile a un diploma semplice non ho detto che non c'è solo il diploma solenne c'è anche il diploma semplice che viene emesso dalla cancelleria pandolfina quindi nonostante si trattasse di un documento del tutto affine a quello da un diploma semplice nessuno scriva palazzi fu coinvolto nella sua stesura la stesura fu invece affidata a un certo Andrea subdiaconus che mai compare nella redazione dei diplomi principeschi e questo mi porta a pensare come diceva a una iper specializzazione scrive palazzi che si occupavano solo dei diplomi e solo di quella tipologia documentaria la terza differenza con la cancelleria ottoniana riguarda molto probabilmente il mancato coinvolgimento degli scrive palazzi nei processi decisionali che stanno dietro i diplomi cioè mentre le grandi personalità implicate nella produzione dei diplomi ottoniani collaboravano spesso in modo attivo nella definizione del rapporto politico che intercorreva tra emittente e destinatario esattamente quel rapporto politico che poi il diploma certificava i notali capuano beneventani sembrano essere stati maggiormente subordinati al vertice principesco quarta e ultima differenza concerne la stabilità degli scrive palazzi costoro non erano soggetti alla turnazione a cui ho fatto riferimento prima poiché erano stabilmente incardinati in una precisa sede istituzionale il palazzo di Capua o il palazzo di Benevento non bisogna d'altra parte dimenticare che se i diplomi imperiali riflettono proprio nella molteplicità dei luoghi di emissione la natura itinerante direi strutturalmente itinerante del potere ottoniano i diplomi del capo di ferro colpiscono il contrario per la straordinaria stabilità dei luoghi di emissione che sono infatti limitati ai due palazzi di Capo e di Benevento si rivela in questo aspetto in questo in altri aspetti ma voglio dire la cifra del potere principesco di Pandolfo Capo di Ferro che ben di più di quello imperiale di Ottone I si impermiava su strutture tendenzialmente più stabili tendenzialmente più formalizzate e per così dire più istituzionali a quest'ultimo proposito non si può non rilevare la centralità assegnata nei testi della disposizione dei diplomi del capo di ferro alle res ex fundate del tutto ignote ai coevi diplomi regi imperiali da queste menzioni ripetute delle res ex fundate si evince la solidità della natura pubblica del potere principesco altrove quasi impensabile negli stessi anni una solidità tanto ideologica come dimostra l'insistenza del lessico dei diplomi del capo di ferro su concetti come res pubblica e pars pubblica anzi pubblica col sistematico scambio tra le due bilabiali occlusive P e B quanto una solidità patrimoniale dal momento che i beni fiscali dovevano avere una consistenza eccezionale a capo benevento come traspare in controluce e tuttavia con evidenza degli stessi diplomi pandolfini in essi si riscontra poi un'attitudine spiccata alla formalizzazione giuridica all'accertamento preciso dei dati soprattutto evidente nell'analiticità e nella dovizia di dettagli con cui sono indicati i confini delle proprietà fondiarie riportate nei documenti e non si può certo dire che i coemi diplomi imperiali di Ottone I dei suoi immediati successori riflettano la medesima cultura giuridica ciò non toglie tuttavia e allo stesso tempo che il lessico dei diplomi di Pandolfo Capodiferro renda ciò non toglie che comunque il lessico dei diplomi di Capodiferro renda esplicita anche la dimensione allodiale del potere sono note in questo senso le cessioni in perpetuo dello Ius Muniendi accompagnate della rinuncia da parte della pars pubblica a esercitare qualunque dominazio come pure le donazioni della Rex sfundate ma non in generi parlo di quelle che fiancheggiano i beni degli enti religiosi quasi un invito a intraprendere arrotondamenti eloquenti sono poi le donazioni di città come quando Pandolfo Capodiferro concesse integam civitatem eserniensem cum totem pertinentiam suam al conte Landolfo il greco e i suoi eredi ed è anche significativo credo e questo è un dato che reputo importante che i diplomi di Pandolfo Capodiferro ignorano sostanzialmente la diversificazione del contenuto giuridico tra tre forme della liberalità sovrana donazione immunità Mundeburdio forme invece chiaramente attestate nei coevi diplomi di Ottone I i diplomi di Pandolfo Capodiferro rivelano piuttosto una tendenza a equiparare qualunque concessione principesca al livello della donazione di terre e di diritti tanto più che queste concessioni sono poi accompagnate da un divieto onnicomprensivo rivolto a conti giudici e gastaldi a esercitare molestia inquietudio molestiam inquietudinem contrarietatem tre lemmi che alludono simultaneamente e a me pare senza distinguere sia l'esercizio dei diritti di giurisdizione da parte degli ufficiali del principe cioè inibiscono un'azione eminentemente pubblica sia l'aggressione e la distrazione abusiva di quote di patrimonio cioè inibiscono un'azione eminentemente signorile due piani che appunto questi tre lemmi non sembrano distinguere è tuttavia chiaro che a capo Benevento come ben dimostrato di Tolore l'odialità del potere che pure io vedo negli aspetti appena menzionati non si espresse assolutamente come nell'aria nei territori imperiali dei secoli X-XI ma trovò un forte e decisivo correttivo proprio in quella viva e robusta tradizione pubblica a cui si è già fatto cenno e questa tradizione fu ulteriormente corroborata dalla istituzione proprio sotto Pandolfo Capodiferro delle già menzionate arcidiocesi di Capo e di Benevento le cui sedi su Fragane si sovrapposero a quelle comitali accentuando in questo modo un'interpretazione dei rapporti tra vertice principesco e lignaggi comitali delle aristocrazie entro una cornice formalizzata e gerarchica si può parlare a questo proposito di una capacità performativa delle istituzioni in questo caso delle istituzioni ecclesiastiche cioè della capacità dell'istituzione in quanto tale a modificare qualitativamente i poteri locali largamente innervati invece da rapporti familiari e informali imprimendo a essi una svolta istituzionalizzante proprio con riferimento alla istituzione delle arcidiocesi di Capo e Benevento si è permesso segnalare infine un ultimo aspetto che consente in sede di conclusione di tornare al tema iniziale quello della macro regione strategica alla fine del secolo decimo quello capuano beneventano era diventato il modello politico ecclesiastico di riferimento nell'ambito del programma di renovazione imperi romanorum di Ottone III e di Silvestro II questo programma sposava l'idea che era un'idea di antica origine papale che era stata in realtà già applicata molto dagli imperatori bizantini secondo la quale ogni popolo non direttamente soggetto all'impero e tuttavia pienamente partecipe della sua coine avesse diritto a una propria arcidiocesi e a una propria guida politica seppure sotto l'alta tutela della chiesa di Roma e dell'imperatore romano germanico questo fu precisamente l'assetto scelto per la Polonia e per l'Ungheria con la istituzione dell'anno 1000 degli arcivescovati di Ignezno e di Gran accompagnata dal riconoscimento contestuale di una relativa autonomia politica di Boleslau il coraggioso di Polonia di Stefano d'Ungheria ai quali la storiografia non sa se attribuire il titolo di duca o quello di re ma forse la qualifica più adatta sarebbe proprio quella di principe perché largamente è esemplato su il caso Pandolfino a suo tempo Ottone I aveva avversato l'adozione di questo schema per l'Europa orientale ma lo aveva accettato per il suo fidato alleato nell'Italia meridionale Longobarda oltre 30 anni dopo l'esperienza di Pandolfo a Capodiferro aveva fatto scuola e fu replicata lungo i confini orientali della cristianità grazie dell'attenzione grazie Stefano grazie a te per questa relazione così interessante dove si incrociano diciamo micro aree ma che sono alla fine macro aree in rapporto con questa dimensione più ampia del potere cioè quello imperiale avendo sottolineato rapporti e diversità tra queste due cancellerie che veramente stimolano tante riflessioni come quelle che appunto tu hai fatto grazie grazie infinite la discussione la facciamo dopo adesso darei la parola a Paola Mazza Paola Mazza è docente presso l'archivio della scuola di palliografia archivistica e diplomatica dell'archivio di Stato di Roma la sua formazione appunto di di archivista l'ha portata allo studio di una serie di una vasta documentazione innanzitutto concentrata sull'area aviglinese in particolare ha studiato i documenti i documenti appunto di Areano Irpino e poi ciò non le ha impedito però di studiare anche altre tipologie di fonti come ad esempio le fonti catastali di cui ha analizzato le analogie e le differenze tra appunto i registri catastali di età moderna e registri più antichi come il famosissimo catalogus baronum e attraverso poi lo studio anche sistematico delle confinazioni delle carte notarili appunto ha ricostruito una cartografia virtuale del territorio da lei analizzato i più recenti studi invece vertono su un'istituzione alla quale io sono particolarmente affezionata cioè il monastero di Santa Sofia di Benevento il cui archivio è un archivio complesso sono affezionata perché io proprio sulle carte di Santa Sofia ho iniziato a imparare la biografia e la diplomatica il professor Vitolo quando io ero studentessa il secondo anno di università aveva fatto fare dei microfilm di queste pergamene io il sabato mattina era in più l'università era aperta anche di sabato mattina insieme a Carmela Bonaguro che era molto più esperta di me nella lettura appunto fu avviata allo studio di queste pergamene perché poi lascia in eredità tutte le trascrizioni questi primi appunti che mi avevano portato via circa un paio d'anni di lavoro solo il sabato mattina ad altri colleghi quindi le carte di Santa Sofia sono molto affezionate e con noi Santa Sofia è un archivio interessante perché è un archivio disperso tra vari istituti di conservazione quindi Paola Massa si è concentrata non soltanto sulla documentazione insieme ma anche sull'archivio sulla ricostruzione dell'archivio quindi sono molto contenta che lei stasera ci parlerà appunto dell'archivio dell'antico archivio del monastero di Santa Sofia di Benevento e delle pratiche di documentazione nelle carte private sofiane di Tal Lunguzarda le do la parola e la ringrazio Grazie mille ringrazio sono molto rieta di partecipare a questi incontri ringrazio in primo luogo la professoressa Sotticola Roberto delle donne Lisa senza Lisa non sarei riuscita neanche a aprirla questa piattaforma e ringrazio anche la professoressa di Medio per questa presentazione rivendico però da subito la mia origine come studiosa di diplomatica non sono archivista studio diplomatica ormai da tanti anni e non sono mai stata un archivista tornando al titolo dell'intervento così come è formulato è sicuramente estremamente impegnativo in realtà ho pensato di proporre una traccia un sentiero all'interno del quale inserire una serie di stazioni di posta che potessero dare un'idea dei vari aspetti che mi sono trovata a sintetizzare in una ricerca che dura ormai da più di 13 anni una ricerca che ha visto però la piena collaborazione di discipline sì come la diplomatica e la paleografia che costituiscono il mio campo di studio ma anche della storia delle istituzioni dell'archivistica e soprattutto dell'informatica questa ricerca è giunta infatti a determinati risultati proprio in quanto queste discipline hanno camminato insieme e si sono sorrette l'una con l'altra e come ci si augura fondamentalmente in una prospettiva costruttiva moderna come tutti questi nostri incontri stanno dimostrando in fondo il punto di partenza è quindi l'archivio l'antico archivio dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento che è una delle fondazioni monastiche più importanti dell'Italia meridionale sulla quale non mi dilungo essendo la storia dell'abbazia ben nota a tutti quanti ricordo solo che è ormai opinione comune che la chiesa di Santa Sofia sia stata costruita dal principe Arechi II intorno al 774 e che il cenobbio annesso alla chiesa fosse in origine abitato da una comunità femminile benedettina sottoposta all'autorità di un preposito cassinese in un imprecisato momento successivo al giugno 923 che è l'anno in cui è attestata Rodelgarda l'ultima badessa di cui abbiamo notizia la comunità femminile fu poi sostituita da monaci benedettini le notizie relative agli avvenimenti dei primi due secoli di vita di Santa Sofia sono assai lacunose in quanto l'antica documentazione originale della fondazione è andata completamente perduta per una serie di concause possiamo però ipotizzare con relativa certezza che fino agli anni venti del XII secolo il fondo documentario dell'abbazia doveva essere ricco organico e ben strutturato badessi e abbati erano certamente attenti a conservare con cura gli atti erogati per conto del monastero nonché i titula e i munimina che legittimavano il giusto possesso dei suoi beni come pensava Vincenzo Matera che a lungo si è occupato del fondo documentario sofiano la dispersione delle carte a cui accennava anche la professoressa di meglio può essere stata provocata dalla combinazione di diversi fattori come la rilassatezza nella gestione del patrimonio documentario gli spostamenti dell'archivio da un locale all'altro l'acquisizione di titoli di proprietà più recenti che andavano a sostituire quelli più antichi e per gli atti di carattere pubblico può aver svolto sicuramente un ruolo di qualche rilievo la loro collezione in unum in copia ovviamente intorno al 1119 nel cronico in Santa Sofia sappiamo che nessun archivio storico nasce di per sé strutturato né ordinato e rappresenta anzi il risultato finale e non casuale di molteplici storie di sedimentazione e dispersione delle carte che conserva e come comunemente avviene per le chiese e i monasteri anche al patrimonio documentario di Santa Sofia si erano andati aggiungendo le carte custodite nelle molte dipendenze disseminate in una vasta area dell'Italia meridionale che erano entrate successivamente nella sua orbita contribuendo a creare una certa confusione nella sistemazione dei documenti e nelle loro modalità di gestione e registrazione la prima ricognizione sistematica del materiale documentario di Santa Sofia risale con tutta probabilità alla fine degli anni 30 del XIV secolo in quell'epoca l'abbazia si trovava in grande stato di degrado e da un documento processuale del settembre del 1338 sappiamo che gli archivi depositati nella sagrestia erano in pessimo stato fatto questo che determinò l'intervento di Papa Benedetto XII il quale nel 1340 si fece promotore di un'accurata revisione del patrimonio documentario finalizzata al recupero dei beni abbaziali le dipendenze di Santa Sofia erano infatti molto numerose e situate in un territorio molto vasto che comprendeva Campania Sannio Capitanata Molise e Basilicata difficilmente scusami ma tu avevi un powerpoint da mostrare perché la telecamera era spinta no io la telecamera ce l'ho accesa no io la vedo la vedo io non la vedo io la vedo noi la vediamo il powerpoint lo state vedendo? no no non lo sto ancora condividendo no comincia più tardi no temevo che no perché io non ti vedo neanche va bene però temevo che stessi mostrando il powerpoint perfetto no 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 ma posso fare qualcosa io per farmi vedere no va bene non è importante va bene allora dicevo che le dipendenze di Santa Sofia erano molto numerose erano disseminate in una vastissima area dell'Italia meridionale che era difficilmente controllabile e gestibile dall'amministrazione centrale dell'abbazia ma anche per noi non è di facile identificazione considerando che molti documenti sofiani sono ancora inediti così come anche la maggior parte dei fondi documentari degli altri enti ecclesiastici del territorio beneventano inoltre le carte del monastero sono conservate in diversi archivi pubblici ecclesiastici privati tra i quali l'archivio storico provinciale di Benevento presso il museo del Sagno come dicevamo poco anzi la biblioteca apostolica vaticana e l'archivio a do brandini a frascati sono sparsi anche in altri archivi adesso insomma sarebbe lungo rincarli tutti pure se non è stata tuttavia ancora pubblicata l'edizione critica delle carte di Santa Sofia su cui lavorava Jean-Marie Martin scomparso recentemente come sappiamo tutti purtroppo un numero consistente di queste pergamene è stato comunque studiato e molte sono state le pubblicazioni prodotte da storici e diplomatisti fin dalla metà del novecento per superare tutte queste criticità ormai diversi anni fa è nato un progetto di ricerca finalizzato al censimento della documentazione notarile edita e inedita prodotta nei centri minori del Ducato e del Principato Longobardo di Benevento tra ottavo e dodicesimo secolo e a questo punto andiamo a condividere si vede qualcosa si vede qualcosa si si ok metti in modalità schermo intero così è perfetto è perfetto ok allora a questo a questo progetto di ricerca è seguita la riproduzione fotografica di tutte le carte e la loro schedatura analitica tutti i dati sono stati inseriti in un database che è stato appositamente costruito questa che vedete è la home page del database che comprende ad oggi 1775 documenti e che può essere indagato da molteplici punti di vista tenendo conto di tutte le occorrenze documentarie ordinate cronologicamente e immediatamente rintracciabili in un'unica base dati in un corpus compatto attualmente la schedatura dei documenti comprende 32 campi ma ogni tanto ne aggiungo qualcuno a seconda del tipo di ricerca che sto conducendo quindi non sono campi fissi si possono aggiungere eliminare no chiaramente però possono aggiungersi campi per lavorarci meglio e questi campi attualmente sono 32 eccoli qua lo scopo finale è quello che abbiamo detto più volte anche nel corso di questi incontri da dicembre ad adesso è quella di condurre centro notarile per centro notarile un'indagine minuta per delimitare aree di influenza innovazioni ma anche linee di fratture e di continuità con le tradizioni precedenti al fine di riuscire a tracciare un quadro d'insieme come quello che ci è stato offerto da Franco Magistrale per il notariato e la documentazione in terra di Bari e ovviamente il primo passo è stato quello di individuare le località urbane e rurali in cui i notari esercitavano la loro attività e producevano documentazione mi dispiace perché questa immagine è un po' sfocata però raccoglie tutti i centri di erogazione ne ho individuati una quarantina fino adesso su cui territorio insistevano più di 200 fondazioni ecclesiastiche molte delle quali producevano e quindi probabilmente costruivano nei loro archivi sia pure secondo modalità più o meno semplici le carte su cui si fondava il giusto possesso dei beni e dei diritti loro aspettanti questi centri pure se non completamente indipendenti dal punto di vista istituzionale e amministrativo da Benevento o da altri luoghi importanti della regione si sono tuttavia evoluti seguendo percorsi di relativa autonomia configurandosi pertanto come quelli che ho più volte definito distretti notarili antelitteram ognuno con le sue caratteristiche che si definiranno più precisamente a partire dalla prima metà del XIII secolo si pensi chiaramente ad Avellino provo a indicarveli da qui si pensi chiaramente ad Avellino a Benevento a Mercogliano ma anche a Montefusco ad Ariano Irpino all'area del Castruntocci a Summonte a Taurasi che superano le 30 unità documentarie ciascuna nonché a Monteforte Irpino a Montevergine a Limata ad Atripalda a Flumeri dove è stato rogato un discreto numero di carte ancora oggi conservate e che certo dovevano essere originariamente in numero molto maggiore questi centri di rogazione rappresentano un'area molto più ampia di quella che è stata fino ad ora oggetto di studio e soltanto dal confronto e dalla dialettica di tutte le peculiarità della documentazione prodotta nell'intera regione potrà nascere una ricostruzione organica dei processi di scrittura e del notariato di queste zone ho iniziato con Ariano Irpino come ha detto prima la professoressa di Meglio nel 2007 ho proseguito con Avellino nel 2011 ma di lavoro ce n'è da fare tantissimo i centri sono tanti e la documentazione è molto corposa in questa griglia però bisognerà poi innestare tutte quelle variabili più o meno marcate imputabili a quel complesso sistema di relazioni e pratiche che intercorrono tra i vari soggetti che partecipano al processo di documentazione nonché tra i documenti e gli atti giuridici veicolati dalle carte tutti questi aspetti riflettono il substrato sociale politico ed economico del vivere cittadino e determinano la prassi giuridica e documentaria di una società complessa e in costante mutamento per quanto riguarda le tipologie documentarie riscontrabili nelle carte private sofiane di età longobarda qui il discorso inevitabilmente si allarga a tutto il territorio del principato di Benevento e si riconnette anche con quanto esposto da Maria Galante per il principato di Salerno a differenza del regno umanitaria meridionale poter contare su due secoli in più prima che un elemento esterno venisse a disturbare la convivenza tra romani e longobardi e l'arrivo dei romani non ebbe certo la stessa forza dirompente che ebbero i franchi nell'Italia centrosettentrionale l'incontro delle due differenti culture giuridiche quella romana legata a una contrattualistica tipizzata e quella longobarda dipendente dai rituali e consuetudini fortemente vincolanti ha consentito una progressiva e meditata costruzione di un comune sistema scritto di documentazione articolatosi naturalmente in due filoni da una parte la carta o cartola dispositiva attraverso cui si ponevano in essere e si documentavano i negozi traslativi della proprietà come la vendita la permita e la donazione e dall'altra il memoratorium breve che offriva la cornice formale a tutti quei negozi con una buona convenienza era fondamenti di un accordo tra le parti e che grazie alla sua plasticità e atipicità consentiva di documentare e mettere per iscritto anche le obbligazioni del diritto barbarico come le vadie le investiture le promesse le tradiziones i morgengab e tutti quegli atti giuridici che gli uomini del nord erano abituati a concludere oralmente di fronte a testimoni nella seconda metà dell'undicesimo secolo il processo di costruzione dei modelli documentari di quest'area sembra ormai giunto a una completa definizione e nell'866 il principe Adelchi decreta che il notaio è ormai l'unico soggetto autorizzato a scrivere documenti il primo documento redatto da un notaio è del dicembre 762 transunto all'interno di un placito nell'anno 966 era una controversa svoltasi alla presenza del principe del principe Landolfo III tra la chiesa di Salvatore in Palazzo Benevento e il monastero di Santa Sofia e con l'eccezione di alcune chirografi da allora saranno soltanto i notari gli scrittori dei documenti e scriveranno sia per i privati sia per i conti sia per i vescovi del loro circondario a partire dal X secolo si cominciano però a osservare già alcuni cambiamenti nel sistema di produzione dei documenti in primis il giudice inizia a essere presente all'azione giuridica e come abbiamo sentito anche nello scorso incontro la sua partecipazione al processo di documentazione è una delle principali caratteristiche della documentazione dell'Italia meridionale a partire dal 912 qualche atto privato che non riguarda solo donne e minori per i quali ovviamente la tutela esercitata dal giudice è prevista dalla legge lungobarda inizia ad essere svolto in presenza iudicis e il giudice solitamente sottoscrive anche il documento insieme agli altri testes i boni ominis che rappresentano l'autorità civile e morale di fronte a cui si compie l'azione giuridica e che con la loro sottoscrizione conferiscono in quest'epoca validità al documento scritto è questo il momento in cui l'Italia meridionale deciderà di percorrere un sentiero diverso rispetto al centro nord della penisola per cercare di assicurare fides al documento le carte restituiscono un processo di evoluzione lento e sotterraneo nel quale compiti e funzioni si affermano nella prassi documentaria e si rendono progressivamente da accessori a necessari nella percezione giuridica collettiva se fino a questo momento il documento era validato dalla sottoscrizione dell'autore dell'azione giuridica e da quelle autografie dei testimoni anche se solo per signum il giudice inizia adesso a sostituirsi nell'atto di sottoscrivere all'emittente del documento nonché ad assumere la funzione di testimone privilegiato come lo definiva Alessandro Cretesi non si tratta di un'autorità giudicante ma soltanto di un testimone la cui sottoscrizione è ancora equiparabile a quella dei boni ominis soltanto attraverso una serie di tappe successive il giudice da semplice testimone diverrà nell'ultimo decennio del XII secolo l'unico sottoscrittore dell'atto assumendo nella prassi con la funzione autenticante della carta notarile medievale che sarà poi sancita con l'istituzionalizzazione della figura del giudice ai contratti previsto dall'invernativa federica sempre nel corso del X secolo le due tipologie della carta e del memoratorium iniziano a compenetrarsi l'una con l'altra dando luogo a quel processo di ibridazione ben individuato e riconosciuto dalla dottrina di forme ed espressioni tipiche ora di uno ora dell'altro schema così le formule tipiche del memoratorium sono talvolta inserite nel testo della carta e i termini cartula breve e scriptum iniziano ad essere utilizzati indifferentemente dagli scrittori di documenti indipendentemente dallo schema formale utilizzato per documentare il negozio giuridico non penso che il termine scriptum utilizzato dai rocatari giunga in quest'epoca a indicare una nuova struttura documentaria sia pure in divenire allontanandosi dall'originario generale significato di documento scritto come invece pensava Pratesi penso piuttosto che il termine continui ad essere usato genericamente dai notai come vox media e che rappresenti invece la spia di un disagio sempre più sentito della loro difficoltà a mantenersi nel solco della tradizione documentaria precedente quella tradizione che di per sé contribuiva ad assicurare la firmitas e la stabilitas del documento i notai sembrano manifestare qualche difficoltà ad applicare ai nuovi schemi negoziali i modelli documentari conosciuti che non sembrano più in grado di adattarsi plasticamente alle nuove esigenze tentano così sperimentando perché la Pratesi di per sé ricerca di nuovi sentieri e soluzioni di rendere funzionale al nuovo che avanza il formulario a loro noto creando forme ibride che prendono un po' dalla carta e un po' dal memoratorium perché il termine scriptum arrivi ad indicare una precisa tipologia documentaria occorre attendere la prima metà dell'undicesimo secolo quando inizierà ad essere utilizzato per documentare una vera e propria struttura negoziale finalizzata a regolare rapporti specifici come quelli che riguardano patti agrari a tempo determinato e concessioni di diritti tutti però subordinati a un censo di entratura che fino ad ora erano stati documentati attraverso il memoratorium è questo un sistema che come abbiamo anche detto l'altra volta non sarà per nulla messo in crisi dall'arrivo dei normanni che nell'undicesimo e dodicesimo secolo continueranno ad utilizzare le stesse tipologie documentarie e gli stessi scami negoziali pur con le inevitabili variazioni che rispecchiano l'evoluzione di una società in divenire nella quale il documento giuridico è una delle espressioni nel corso del dodicesimo secolo infatti tutto il territorio beneventano il formulario dei documenti sembra non soltanto semplificarsi ma anche cristallizzarsi su se stesso in una dialettica ripetitiva tra gli scrittori dei documenti e i giudici che li sottoscrivono soltanto quando l'intervento totalitario di Federico II nel 1231 provvederà a fissare con legge del regno i mutamenti già registrati nella prassi documentaria di fine dodicesimo inizio XIII secolo il documento italo-merigionale si uniformerà a criteri comune e prenderà un'altra strada questo diciamo che in linea generale è il quadro molto molto sintetizzato di cose da dire ce ne sarebbero tante ma anche vista l'ora mi limito a presentarvi alcuni casi in cui la prassi documentaria diviene il riflesso sia di usi locali sia di riminiscenze giuridiche decisamente risalenti per esempio nell'ottica di una ricostruzione dei rapporti che intercorrono tra i vari soggetti che partecipano al processo di documentazione di particolare rilevanza sono risultati i legami ricorrenti tra giudici sottoscrittori e rogatari anche in territorio beneventano come già Armando Petrucci e Carlo Romeo avevano rilevato per Salerno l'ordine delle sottoscrizioni testimoniali rispetto alla cosiddetta gerarchia della posizione cioè l'ordine legato alla rilevanza sociale dei singoli scriventi per esempio la sottoscrizione del vescovo precede di norma quello dell'abbate che a sua volta precede quella del comes o del signore Normanno tutte seguite da quelle degli ecclesiastici anch'essi in ordine gerarchico e da quelle di eventuali testes che chiudono il documento nelle carte sofiane lo stristo legame tra il rogatario e i suoi sottoscrittori in specie i giudici dato che i documenti sono per lo più sottoscritti da loro conferma così quella tendenza del notaio a scegliere i suoi collaboratori che lo affiancavano nel suo ufficio ogni volta che era necessario ad esempio nella seconda metà dell'undicesimo secolo il giudice le rissi sottoscrive tutti i documenti erogati da Ioannes I e da Risando fino al termine della propria attività per essere sostituito prima dal giudice Ioannes II e poi dal giudice Maraldo ma i casi sono molti oppure ancora e torniamo a parlare di confini come prima pensiamo alle confinazioni cioè alle descrizioni confinarie espresse nelle carte medievali che dispongono del trasferimento dei terreni e dei diritti accessori gravanti su di essi necessaria premessa per l'identificazione dei fondi erano le operazioni di delimitazione e terminazione dei possedimenti pure se non abbiamo notizia di come queste si articolassero le carte riportano tuttavia le descrizioni spesso analitiche di questi fondi finalizzati a identificare con la massima precisione il bene oggetto del negozio si precisano i confini delle terre se ne danno a volte le misure espresse nei modi più diversi in dipendenza dall'usus loci e si elencano le pertinente insieme alle quali il bene sarà trasferito come per esempio la tipologia e il numero delle piante coltivate i terreni si misurano ad passum iustum o ad passos iustos ad brachia hominum ostensa oppure ad brachia de justa persona hominum et digiti estensa con la specificazione che ipse passo abet quinquepedes e tunce ed uobus oppure che ogni passus è pari a optopedes si tratta chiaramente di unità di misura che non hanno una validità assoluta e che traggono origine da antiche consuetudini locali il passo giusto così come il braccio giusto è quello che non è né troppo corto né troppo lungo e non esisteva una lunghezza stabilita del piede che più volte era detto equivalere alla larghezza del foglio di pergamena su cui era registrato l'atto giuridico che si stava stipulando con misure che variavano da notaglio a notaglio sia ad Avellino per il notaglio Iaquintus nel 993 talis estips pedes quantum istacartula in capite abet latitud cioè 211 mm il secolo successivo per il notaglio sparano il piede sarà lungo quantum istacartula in capite videtula e setlata cioè 340 mm poi abbiamo detto prima che i notai spesso scrivevano i loro documenti su richiesta dei privati o dei conti o vescovi che risiedevano nel loro circondario per esempio nel 1069 il conte di Ariano Irpino Gerardo di Buonalbergo in un procedimento svoltosi davanti al vescovo Mainardo procede alla restituzione di alcuni beni contesi al monastero di Sant'Angelo dipendente da Santa Sofia il notaglio risando in attività tra 1043 e 1072 professionista capace ma presumibilmente non uso a produrre documentazione solenne riutilizza ingegnosamente formule tipiche del documento privato adattandole a un contesto ufficiale e fabile sfoggio di retorica nell'introdurre la decisione del conte la cui potestas dice derivare dalla volontà divina divino nutu inserendo anche una renga solitamente non presente nelle sue carte private che ricorda come justum sit diligere justiziam is qui judicare debit alla sottoscrizione del conte segue l'ordine di documentazione arrogatario che nei documenti privati redatti da Risando precede invece tutte le sottoscrizioni si tratta probabilmente di una soluzione finalizzata a conferire al documento maggiore solennità come portano a pensare anche gli artifici grafici nella sottoscrizione del conte Gerardo quasi sicuramente di mano dello stesso Risando che è vergata in lettere maiuscole raddoppiata e che purtroppo non posso mostrarvi perché il documento è biblioteca vaticana e quindi non ho l'autorizzazione di riprodurlo per chiudere per chiudere e poi giuro mi taccio solo per illustrare quanto possono essere radicati e quindi recuperati certi comportamenti nella prassi ben oltre le epoche che li hanno generati mi porto a fare un salto in avanti di qualche secolo parallelamente parallelamente alle ricerche sulle pergamene medievali e viste le incongruenze che continuavo a trovare nelle carte sui nomi degli abbati commendatari del monastero di Santa Sofia avevo deciso di compilare una cronologia della commenda abbaziale fondata sì sulle pergamene ma anche sui documenti cartacei e gli inventari d'archivio e scartabellando in diversi archivi i volumi del fondo cartaceo di Santa Sofia mi sono imbattuta in due verbali di età moderna nella seconda metà del XVII secolo l'archivio abbaziale inizia ad essere considerato non soltanto parte integrante dell'abbazia ma anche insieme alle scritture che conserva rappresentazione e garanzia dell'intero patrimonio monastico questa sua funzione è chiaramente testimoniata anche nel processo verbale redatto il 9 agosto 1653 dal notaio Geronimo Colle oggi conservato in archivio Doria Panfili che attesta la presa di possesso dell'abbazia da parte del cardinale Camillo Panfili Astalli pochi giorni dopo essere stato nominato abbate commendatario di Santa Sofia siamo intorno a 1653 la copia autentica del verbale attesta la cerimonia compiuta dai delegati del cardinale Panfili Astalli iniziata il primo agosto con la presa di possesso della chiesa del monastero e del palazzo abbaziale e continuata per i sei giorni successivi nei diversi feudi e possessi sofiani il primo agosto Ottavio Roncioni referendario apostolico e governatore di Benevento compì per conto del cardinale Panfili Astalli e alla presenza di numerosi notabili della città il rituale che avrebbe immesso il cardinale nel possesso dell'abbazia ambulando deambulando stando sedendo morando ianoas et fenestas aperiendo entrando ex eundo locum archivi scripturarum curie eccetera eccetera scripturas tangendo et taliorum membranum penes se retinendo et facendo omnes alios actos denotantes veram realem actualem corporalem et pacificam possessionem il possesso pacifico dell'abbazia viene così acquisito attraverso la consegna rappresentante dell'abbate degli oggetti che la rappresentano tra i quali chiaramente le chiavi del palazzo il locale in cui era conservato l'archivio e le scritture in lì custodite trasferite al nuovo dominus abbas et commendatarius dell'abbazia di Santa Sofia attraverso una cerimonia di tradizio vera reale fattuale corporale svoltasi alla presenza di molti testimoni e nei cinque giorni successivi questo rituale prosegue nelle terre di pertinenza dell'abbazia nei reggisie non è scritto nulla a riguardo ma possiamo agevolmente immaginare che qualcosa di simile sia accaduto anche nelle chiese e nei fondi dipendenti dal monastero più o meno lontane da Benevento di cui il cardinal Panfilia Stagli doveva ugualmente prendere possesso e la tradizio corporalis come atto di trasferimento di beni è qualcosa che viene da lontano da molto lontano è qualcosa che ha attraversato i secoli antichi come un torrente tombato di cui il legislatore ha perso da secoli anche il ricordo ma la prassi no la prassi non dimentica se la intendiamo non come deformazione e degenerazione del diritto ufficiale ma come diritto nato dall'esperienza di tutti i giorni che si esprime in forme più sciolte e consone ai nuovi bisogni come scriveva Francesco D'Alasso nonché come costante dinamica che penetra la prassi dei tribunali e quella negoziale per usare una definizione di Giovanna Nicolai possiamo ben comprenderne il ruolo attivo e vivifico nell'esperienza giuridica di una società stiamo parlando di un atto rituale la tradizio corporalis che trova la sua origine in età romana arcaica quando il trasferimento di un bene inter vivos tra le altre modalità di acquisto a titolo derivativo poteva concretizzarsi in un atto non formale che veniva posto in essere ovviamente davanti a testimoni attraverso la consegna materiale della cosa e l'acquisizione immediata del possesso questo atto materiale che sostituisce e rappresenta la consegna effettiva del bene nel caso in cui il bene non sia facilmente trasportabile pensiamo a una terra o a una casa che non potevano certo essere consegnate fisicamente dall'alienante a ricevente continua ad essere compiuto per secoli attraversando l'età arcaica e quella classica si reinterpreta nel tardo antico e nel medioevo che la legano al costituto possessorio e sostituiscono la consegna del bene con la consegna del documento fino ad arrivare all'età moderna passando per la riscoperta del diritto romano che scoperchia nuovamente l'alveo interrato dei fiumi e attualizza e reinterpreta quelle tradizioni antiche ormai stereotipate anche nel ricordo le quali finiscono anche per essere recuperate negli ordini esseromani che dalla fine del settimo secolo tramandavano le norme delle azioni liturgiche presiedute dai pontefici e romani e nel cerimoniale Episcoporum il cerimoniale dei vescovi pubblicato da Papa Clemente VIII nell'anno 1600 e più volte aggiornato nel corso dei secoli oggi rimane solo il ricordo di questa cerimonia nei capitoli del cerimoniale dei vescovi nei quali si fissa la liturgia da seguire per la presa di possesso della diocesi e l'accoglienza del vescovo nella sua chiesa però c'è ancora credito della processione di ingresso del vescovo nella sua chiesa cattedrale questo viene mantenuto l'esibizione e la lettura della lettera apostolica di nomina il titulus e dopo l'acclamazione del popolo il metropolita invita il vescovo a sedere sulla cattedra l'atto simbolico che sopravvive dell'antica tradizio corporalis a dimostrazione che questo appena citato non fu un episodio isolato 50 anni dopo in un pubblico strumento dell'8 febbraio 1708 conservato in forma di opuscolo presso l'archivio di San Pietro in vincoli a Roma e pubblicato nel 1733 nel bullario una dei canonici regolari della congregazione del Santissimo Salvatore l'arcipescovo Vincenzo Maria Orsini il futuro papa benedetto XIII in qualità di abbate commendatario di Santa Sofia descrive minutamente lo stato della canonica in una narrazione visiva che coinvolge sorprendentemente il lettore dandogli quasi l'impressione di gironzolare per il chiostro e di entrare negli ambienti del piano terra del monastero come la stalla il giardino i magazzini il refettorio e la cucina per poi salire al piano superiore e qui leggiamo il documento attraverso una scala minore composta da 19 gradini di pietra fatta anche a volta intonacata e biancheggiata e giungere nelle stanze del dormitorio alla fine del quale si entra nel loggione coverto che affaccia da un lato anche sul chiostro è questo il piano in cui si trova la stanza dell'archivio fatta a volto finto intonacato e biancheggiato come sopra col pavimento di mattoni e la stanza dei luoghi comuni solariata e l'archivio comuni e l'archivio comuni questa descrizione visiva della canonica consente qualche riflessione circa la funzione giuridica dello scritto che la contiene anche questo documento attesta infatti la consegna dell'abbazia di santa sofia da parte dell'arcivesco corsini che questa volta agisce però in qualità di abbate commendatario all'abbate alessandri della congregazione dei canonici regolari il quale si impegna a custodire la chiesa e il monastero si impegna a conservare i locali nello stato in cui si trovano tutte le specifiche della relazione di prima l'archivio fatto a volto finto intonacato biancheggiato sono tutte cose che l'abbate deve comunque mantenere e destinare ogni anno 300 ducati per i lavori necessari alle riparazioni dell'abbazia il canonico Santoro il notaio che redige il documento a futura memoria dichiara espressamente che alla presenza sua e di altri testimoni si è fatta la descrizione minuta tanto di esso monastero quanto della chiesa mediante l'accesso personale in ciascun luogo e detto padre abbate alessandrini ha dichiarato di aver ricevuto detto monastero e chiesa nello stato e forma di scritti in sua presenza una sorta di ricevuta e ha obbligato se e i suoi successori in forma alla reverenda camera apostolica con tutte le clausole necessarie e opportune col giuramento in forma tatto pecto remore sacerdotale cioè giuramento formulato toccandosi il petto secondo il costume proprio degli ecclesiastici e di mantenere tanto detto monastero quanto la sua chiesa nello stato e forma come sopra a lui consegnati e di ripararli tante volte quanto bisognerà come già accaduto poco più di 50 anni prima il possesso dell'abbazia viene così trasferito al padre Alessandrini con una rituale cerimonia pubblica in cui si fondono gli elementi degli antichi tradizio simbolica e tradizio brevimano di età romana che si svolge visitando in processione tutti i locali e gli edifici del complesso abbaziale in un lungo percorso documentato con ricchezza di dettagli simboli a tutti gli effetti necessari e funzionali all'assunzione del possesso e degli obblighi che quel possesso comporta grazie dell'attenzione e chiudo qui il mio intervento grazie per questa bella relazione sull'archivio appunto di Santa Sofia che è un archivio complesso che ci ha mostrato benissimo Paolo Massa allora aprirei subito la discussione ci sono interventi ecco Domenico Proietti giusto? Buonasera eccomi eccomi salve un paio di osservazioni ma tutte diciamo di conserva dal mio punto di vista sulla bella relazione di Manganaro intanto sulla specializzazione se mi pare di aver capito così dei notai diciamo del principato mi pare che dalle cose che ho visto io dei documenti che ho visto io mi pare che questa diciamo affermazione possa essere confermata non so se si sente se ci sono problemi si si sente benissimo d'accordo io registro tutta una serie di notai spesso notarius et clericus però in atti appunto diciamo privati o fatti da un giudice quindi la limitazione che Manganaro fa dei notari dei principi mi sembra assolutamente giusta faccio una rapida elencazione tanto per conforto suo e mio a Teano per esempio partecipano come notari Garipertus e Martinus tutte e due clericus et notarius quello di di sessa è il decarius clericus et notarius di nuovo a conferma per controprova a Capua il notario è Adenolfo solo notario però come testimoni è una causa importante l'abbiamo detto l'altra volta è un quarto delle proprietà di Monte Cassino quindi è chiaro che si prendono come giudice a richisi iudex civitatis cioè il giudice supremo non so come dirlo però quindi come notarius si prendono probabilmente un altro dell'ambito e come testimoni compaiono Petrus notarius e un altro Petrus clericus et notarius ovviamente il nome Petrus è abbastanza diffuso anche se siamo in un contesto longobardo e una onomastica latina è purezza significativa e soprattutto in queste cariche potrei citare altri notai eccetera ma un'altra questione vorrei porre a Manganaro dietro lo sfondo di questi diplomi di Pandolfo eccetera c'è questa particolare situazione direi della capua del decimo secolo in cui il potere principesco sta facendo i conti con i conti per l'appunto cioè con queste forze diciamo centrifughe dei conti di Teano di Sessa eccetera e lì gli studi sia di Loret sia di Di Muro mi pare che come dire attestano questa situazione i diplomi ha fatto bene Manganaro a citare anche le diciamo le dotazioni che poi fanno ai istituti ecclesiastici che mi pare siano se non ho capito male circa il 50% giù di lì rientrano in questa politica di appoggio del principato capuano alla chiesa ricordiamoci che a metà del decimo secolo a capua ci sono tre monasteri Monte Cassino che non è ancora stato ricostruito Santa Maria in Cingla e San Vincenzo a Vulturno che stanno tra lì tra l'altro anche Zeller se ne è occupato tra lì e Teano quindi questa presenza e questa entente cordiale non so come dirlo del principato capuano con la chiesa insomma rientra in un gioco un pochino più basso poi mi ha fatto molto piacere il mitaccio questo legame tra questa microstoria capuana e la macrostoria europea questo è davvero estremamente interessante questa microstoria capuana che è legata alla macrostoria della lingua italiana da mio punto di vista da un punto di vista storico istituzionale scopro e con grande piacere ringrazio davvero e faccio i complimenti a Manganaro con la macrostoria europea sono io che posso? prego sono io che la ringrazio in scia a quello che lei ha detto vorrei proprio dire questo mi conforta avere come dire la sua conferma no no ci appoggiamo a vicenda esatto bisogno di appoggi sulla specializzazione dei notari per esempio è molto interessante il caso che lei ha riportato con la richisi iudex a capua però insomma è poi tutta una serie di onomastica che non rientra non corrisponde a quella dei notari di corte se non per quel Petrus però anche lì per esempio che tra l'altro trovo ho trovato anch'io molto modestamente su un documento il famosissimo il più famoso di tutti cioè i placidi famosi il 960 esatto ecco per esempio lì un Petrus notarius e basta e proprio esattamente negli anni in cui il Petrus notarius di cancelleria imperversa perché scrive ma sarà stato lo stesso probabilmente lo stesso però evidentemente non si può dimostrare però è curioso e però è curiosa anche la sua posizione qualificata ma defilata che esattamente corrisponde a quanto diceva lei cioè ammesso ed evidentemente comunque non concesso che il notario di corte cioè che ci sia un'identità tra il notario di corte Petrus e quel testimone al placito del marzo del 1960 è curioso che è come dire cioè ci sia appunto cioè in realtà non svolge attivamente una funzione ad esempio nella condizione è un garante pesante però è un garante esatto e comunque questo però a livello del suo coinvolgimento nella produzione il processo genetico della documentazione resta nel momento in cui non è un diploma ma c'è un placito lui sia nella condizione del placito sia probabilmente nell'estensione della notizia di placito resta escluso e questo è curioso nel senso sovruto le ripeto facendo io come ha visto ho usato un po' gli problemi imperiali coevi come sponda attraverso come termini di paragone che potesse far emergere con più chiarezza le peculiarità di quelli capuani per esempio questo è inconcepibile in ambito imperiale in ambito imperiale se c'è una persona del tutto qualificata per la produzione di un diploma allo stesso tempo può essere benissimo giudice in un grande sinodo in un grande sinodo romano imperiale cioè papale imperiale romano oppure nei grandi sinodi nelle grandi sinodi delle diete sia in Italia settentrionale che in Germania un altro aspetto su quale mi sembra di consentire totalmente è il fatto che non possiamo non dobbiamo più parlare di questa categoria in astratto molto ampia di notari funzionari eccetera ma siamo finalmente in grado spogliandoci magari i documenti imperiali per un verso i reggesti che continuano a dire le Cisotti Avagliano di Monte Cassino quando comincia a entrarci lì dentro sono 10 15 20 persone quindi è un gruppo limitato e ben identificabile quindi non è questa tradizione capuana che non si sa eccetera eccetera ma sono persone concrete che interagiscono l'una con l'altra e quindi riusciamo a ricostruire un tessuto connettivo chiedo scusa io ho rubato anche troppo tempo grazie Vito Lorin buonasera saluto a tutti e grazie ciao allora io avrei un'osservazione sulla sulla relazione di Stefano Langanaro e poi una domanda per Paola Massa l'osservazione che è un'osservazione perché non ti chiedo Stefano di rispondere nel senso che è proprio un pensiero così embrionale che tra le cose interessanti che tu ci hai detto ce n'è una che mi sembra particolarmente feconda perché è problematica emerge da un paio delle considerazioni che hai fatto una certa distinzione funzionale fra Capua e Benevento che è una cosa che secondo me esiste nel corso del decimo secolo e non è messa particolarmente a fuoco negli studi sul principato per esempio questo fatto che in un caso gli iscrivi di palazzo siano siano dei chiedici siano degli ecclesiastici e nell'altro no da questo punto di vista mi sembra molto interessante così come mi sembra molto interessante il fatto che come posso dire e mi sembra che vada in quella stessa direzione il fatto che le osservazioni che tu hai fatto a proposito dei sigilli e dei monogrammi cioè il fatto che ci siano due monogrammi ciascuno per ognuno dei regnanti e che però all'interno di questa complessa costruzione che comprende evidentemente sia i monogrammi che i sigilli si rappresenti il potere di entrambi ma mantenendo una chiara gerarchia mi sembra che vada nella direzione di un principato che nasce dal conglomerato di due ambiti politici originariamente distinti che si articolano fra di loro senza però fondersi del tutto ti volevo chiedere se questa cosa ti sembra se questa osservazione ti sembra convincente insomma se va nella direzione di cose che hai notato anche tu oppure no e invece a Paola a Paola Massa volevo chiedere se ci può se ci può dare all'incirca una cronologia della cristallizzazione del formulario dei documenti che poi va ben oltre la conquista normana da quello che lei ci ha detto e che torna benissimo con le cose dette pochi giorni fa anche da Maria Galante e se da questo punto di vista anche dal punto di vista delle pratiche scrittorie oltre che dei formulari vede una differenza fra ambiti cittadini e ambiti rurali grazie io ringrazio moltissimo Vito Lorè sono sono d'accordo con lui come dire ne ho ricavata la medesima le medesime impressione e sono anche convinto che sia una strada come dire da battere volevo dire questo sul fatto del doppio monogramma preciso a onore solo per essere come dire a beneficio di completezza che in realtà noi abbiamo solo 5 diplomi dei 38 complessivi col doppio monogramma tutti redatti a capua tutti 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 meno diciamo 4 su 5 redatti da uno stesso notaio che è questo Petrus e e ed è assolutamente e quindi in realtà poi bisogna un po' capire cioè perché solo in alcune circostanze il doppio monogramma viene viene usato ed è a quanto ne so come dire un unicum un qualcosa di eccezionale anche in relazione ad altre cancellerie quindi secondo me meriterebbe delle riflessioni in più però rispetto al fatto comunque della distinzione capo benevento trovo comunque interessante aggiungere anche un'altra distinzione che riguarda la dimensione praticamente della comunicazione simbolica e la dimensione dell'esercizio del potere e che va esattamente sulla scena di quanto di quanto tu hai detto e cioè la comunicazione simbolica è tutta incentrata sull'associazione dei due principi al medesimo trono però la gerarchia resta assoluta noi vediamo che quando c'è il diploma non solenne ma il diploma semplice che ha delle caratteristiche inequivocabili cioè non abbiamo un invocazio semplificata non abbiamo l'intitulazio non abbiamo il giorno nella data top nella data cronica non abbiamo il monogramma e proprio il fatto di non avere l'intitulazio e il principe come dire di primo rango che parla solo in prima persona plurale dicendo iniziando con nos pandolfus per esempio e lì si capisce perfettamente che fuori dall'affizio richiesta dalla comunicazione simbolica che in realtà è un affizio che contiene in sé un elemento di verità istituzionale intendiamoci però come dire fuori da quello quando poi bisogna scrivere un documento semplice veloce pragmatico in realtà c'è solo un principe che governa e quindi la gerarchia è molto chiara e sarebbe interessante vedere se questa gerarchia si riflette anche sulle sedi e aggiungo questo elemento e poi mi taccio e cioè nella nella letteratura nella bibliografia io ho trovato più volte dei riferimenti al fatto che il principe semplicemente correggente associato al trono sarebbe stato a Benevento sarebbe come dire si sarebbe risideva fondamentalmente a Benevento comunque gravitava principalmente su Benevento mentre Capua rimaneva il principe di primo rango io francamente però sono come dire ho appena iniziato a vedere cose Capuane e voi me lo direte voi se siete così o no non lo so io non ho trovato nessun elemento nella documentazione da me analizzata che possa indurre ad affermare che uno dei due rideva Benevento e l'altro a Capua però sarebbe molto importante riuscire ad accertarlo perché se così fosse sia la differenza funzionale delle due sedi sia la gerarchia tra i due principi troverebbe una conferma importante però bisognerebbe trovarla nelle fonti ma magari c'è io non l'ho vista e quando ho trovato degli autori che l'hanno affermata non ho mai trovato circostanziato in nota un riferimento che lo giustificasse Paola Paola prego grazie per la domanda ma non ho capito una cosa tu parlavi di cronologia nella cristallizzazione di forme e formulari o di schemi documentali forme e formulari una cronologia nel senso forme e formulari restano praticamente sempre quelli per quanto riguarda i documenti privati nei documenti privati più antichi quelli che sono di fine decimo secolo che sono quelli io ti posso parlare per la documentazione di Ariano Erpino che ho studiato tanto e quella di Avellino che pure ho studiato Avellino in Italia le formule restano le formule restano sempre le stesse possono essere più elaborate e ripetitivi nei documenti più risalenti ma man mano che si procede verso l'undicesimo secolo i documenti cominciano leggermente a essere un pochino più sintetici ad accorciarsi un po' ma non di tanto dopo di che passiamo nella seconda metà dell'undicesimo secolo che cominciano a succedere cose e anche per quanto riguarda la pratica notarile iniziano nei documenti cominci a trovare degli elementi nuovi ma perché li trovi gli elementi nuovi li trovi perché cambia la società cambiano i negozi e quindi ovviamente i notari cercano di documentare i nuovi negozi con quello che loro hanno a disposizione per cui le formule che hanno usato pare pare fino a quel momento iniziano ad essere manipolate adattate e si arriva fino al dodicesimo secolo dove questo processo è evidente perché gli atti di dodicesimo secolo e andando verso il tredicesimo ancora di più sono molto più stringati sono molto più corti le formule sono molto più decise non ci sono più ripetizioni nei documenti di decimo e undicesimo secolo le ripetizioni sono tantissime mentre invece negli atti di fine dodicesimo e tredicesimo i documenti sono molto più molto più lineari molto più instrumentum se vogliamo anche se ancora qui non ci arriviamo però il concetto è quello grazie si era preso Bernard Zeller e poi Maria Galante mi vedete? sì allora innanzitutto grazie per tutti gli interventi avrei comunque solo una domanda e questa è per Stefano Manganaro se ho capito ci sono delle differenze oppure delle innovazioni nei diplomi di Pandolfo che riguardano da un lato importantissimo sicuramente il contenuto e quindi anche il formulario è lessico la mia domanda è per quanto riguarda diciamo il documento stesso diciamo gli elementi che lei ha anche nominato la croce decorata il monogramma il sigillo forse anche il formulario ci sono delle differenze significative rispetto ai documenti dei predecessori di Pandolfo o non si possono vedere innovazioni diciamo significativi Stefano il microfono grazie 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 della domanda a me sembra che c'è certamente la grande cesura nelle forme grafiche della documentazione cancelleresca avviene con Atenolfo di Capo Benevento dopo il novecento quindi lì abbiamo nettamente una cesura da un punto di vista del layout da un punto di vista dell'impaginazione della scrittura adottata da questo punto di vista a me pare che i diplomi di Pandolfo a Capodiferro non segnino un ulteriore sviluppo ma siano in continuità con quelli anche perché tra l'altro questi diplomi iniziano il primo del novecento quarantaquattro sono appena da quarant'anni appena che si scrivono così di plomi a Capo che è un tempo lungo ma non lunghissimo ecco però devo dire che ad esempio la presenza come dicevo prima saltuaria ma significativa del doppio monogramma mi sembra questa invece una novità o qualche cosa che il monogramma vergato di rosso che ha come dire simbolicamente ha un impatto incredibile era già dei predecessori ma che io sappia la presenza di due monogrammi la presenza saltuaria ma significativa di due monogrammi non mi pare avere dei precedenti grazie Maria grazie sì mi sentite sì volevo chiedere a Stefano Vanganaro alcune cose che in verità sono state già dette da Vito Loret e premetto che ho perso alcune battute per mancanza di collegamento per quanto riguarda la differenza tra diplomi semplici e diplomi solenni adesso ho sentito in sintesi le differenze formali ma corrispondono anche delle differenze di contenuto cioè voglio dire le azioni giuridiche promosse dai dal principe e dai principi sono le stesse o si come dire la prassi la rappresentazione documentaria è coerente con una differenza di azione giuridica e poi per quanto riguarda le comparazioni senz'altro è importante capire quali sono gli schemi modelli dei diplomi ottoniani che si ripropongono nei diplomi di capo e benevento però forse sarei più prudente nel senso che nell'organizzazione della cancelleria dell'impero del regno e dell'impero c'è una grande differenza proprio con le cancellerie dei principi quindi se si tratta di modelli di riprese va benissimo ma se si tratta forse di differenze di organizzazione forse sarei un poco poco più prudente e sarei interessata a capire se poi questi diplomi di Pandolfo dal momento che Pandolfo per un certo periodo pur se breve è comparso a Salerno se ci sono delle differenze con la diplomatica dei principi di Salerno del X secolo perché per esempio anche per quanto riguarda lo stato laico ecclesiastico del personale e degli scribe a Salerno fino agli anni 80 del X secolo il personale è laico poi dagli anni 80 del X secolo troviamo personale ecclesiastico o laico ma comunque strutturato all'interno della cancelleria cioè dei veri e propri scribe di Palazzo ci sono delle differenze secondo Stefano Manganaro tra o ha notato diciamo delle differenze tra la diplomatica dei principi di Capua e la diplomatica dei principi di Salerno per questo periodo per questo torno cronologico e una domanda a Paola Massa quel database che ci ha fatto vedere Paola è disponibile e reperibile perché sarebbe molto veramente interessante lavorare su dati che sono a disposizione come dire degli studiosi grazie posso? sì sì grazie grazie molte per le tre domande rispondo in ordine partiamo dal diploma semplice no per quanto riguarda i contenuti giuridici ma direi e anche per quanto riguarda come dire il dittato non si ravvisano delle differenze con il diploma solenne le differenze sono quelle a cui facevo prima accenno l'omissione del signum del signum la semplificazione del protocollo della data e via dicendo e anche in realtà dell'invocazio che diventa solo grafica scompare scompare la parte la parte cioè diventa solo iconografica scompare la parte urbana sì insomma e direi anche un'altra cosa che in realtà poi queste queste comparazioni possiamo farle poi fino a un certo punto perché abbiamo a meno che rispetto al conto che ho fatto il censimento di cui mi sono occupato abbiamo solo un diploma in originale EINFAC quindi diciamo semplice e per il resto abbiamo delle trascrizioni da cui comunque possiamo evincere una corrispondenza rispetto al quadro che le ho appena provato a descrivere seconda domanda il rapporto con la cancelleria imperiale ma sono del tutto d'accordo con lei sono così d'accordo con lei che che mi 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 sottolineare che in realtà nella relazione ho provato a indicare molto più le differenze che a mio avviso sono ben più numerose rispetto alle analogie tra le due cancellerie e tra i due prodotti delle due cancellerie cioè i diplomi cioè l'unica analogia che a me parte di diciamo di individuare è solo quella relativa a quello che probabilmente è solo un mito storiografico cioè l'idea di questa struttura amministrativa burocratica altamente organizzata con un gran numero con un personale cioè un personale anonimo e estesissimo numericamente che produce documenti standardizzati allora questo secondo me va escluso ma va escluso diciamo per l'alto il primo medievo direi to cure tutto il resto se 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 mi sono spiegato bene in realtà insisteva sulle differenze la differenza nel nel reclutamento degli iscrivi nel nella nei luoghi di emissione che sono invece molto molto più stabili e istituzionalizzati a capo a Benevento rispetto a quelli imperiali e così via terzo quarto scusi terza e ultima domanda Salerno allora premesso che me ne sono occupato meno però in realtà Salerno è un caso molto differente perché quella trasformazione che a capo Benevento avviene con l'ascesa di Atenolfo e poi possiamo vedere con appunto come dicevo prima in continuità con Pandolfo non si verifica a Salerno fino all'undicesimo secolo cioè noi in realtà a Salerno abbiamo ancora una fortissima tradizione della carta Longobarda mentre invece il documento solenne come dire si manifesta dopo più tardi e per quanto sono riuscito a vedere e a capire mi pare che non ci sia nessun diploma emanato da Pandolfo primo che pure fu associato al trono di Salerno dal figlio dal 1978 all'81 ma già dal 74 c'era il figlio insieme a Gesulfo ecco diciamo per il periodo in cui Pandolfo e o suo figlio governano Salerno di quel periodo non abbiamo almeno che io sappia diplomi forse c'è qualche documento insesto forse c'è qualche insesto però così a memoria vale a memoria no anzi le sarei grato se se riesco posso correggermi o comunque segnalarmi qualche cosa che mi è sfuggito perché io mi sono principalmente anche per ragioni diciamo di tempo questa era solo una parte della ricerca che ho condotto quest'anno questa sui diplomi e quindi in verità però ecco comunque di sicuro non abbiamo originali abbiamo originali salernitani ma o anteriori o posteriori e la forma solenne diciamo del diploma solenne come dire compare più tardi se per solennità intendiamo cosa intendiamo per solennità compare più tardi cioè compare c'è una differenza formale senz'altro tra i diplomi fino a che tra i documenti emanati dall'autorità del nono e del decimo secolo rispetto a quelli dell'undicesimo ma queste differenze riguardano la larghezza del sigillo la grandezza del sigillo lo spessore c'è alcuni elementi ma il diploma è sempre quello però mi scusi è una differenza tra semplice e solenne almeno a Salerno quindi non è questo il problema per noi per Salerno però mi permetta solo di dire una cosa proprio da un punto di vista cioè personalmente magari mi sbaglierò ma io invece sono molto convinto dell'assoluta importanza di quelli che invece se ci concentriamo esclusivamente sul testo sono elementi che possono apparire sussidiari secondari noi dobbiamo dobbiamo immaginare al modo con cui questi documenti erano anche fruiti il documento veniva in molti casi mostrato in modo ostenso veniva cioè nella società di quel tempo il documento la pergamena solenne incorporava la relazione politica quindi come dire in realtà per lo più in giudizio e da pochissime persone si stava a guardare la clausola della riga 6 della 7 c'è un uso tecnico giuridico per lo più in ambito giudiziario molto importante che certamente io non voglio in alcun modo sminuire ma c'è un uso di questi documenti che è quello che si chiama come funzione performativa che è altrettanto importante perché manifesta chi è il destinatario rispetto all'autorità emittente e chi è di conseguenza all'autorità emittente e quando parlo di documento solenne però sempre documento è sì beh sicuramente non cambia la dimensione praticamente giuridica ma cambia la dimensione della comunicazione simbolica come diploma solenne io intendo il diploma esemplato su quello imperiale che ha un escatocollo che ha un protocollo che ha una certa strutturazione che ha il sigillo che ha il monogramma ecco questo tipo di diploma che non è che sia migliore di altri però ha delle caratteristiche formali che però sono anche sostanza quel tipo di diploma a Salerno arriva dopo ma scusa se intervento di nuovo ma il precetto principesco presenta tutte queste caratteristiche è comunque un documento solenne se vogliamo mantenere questa 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 dizione perché c'ha l'invocazione c'ha l'intitolazione c'ha il sigillo c'è e la e la composizione la struttura compositiva del documento principesco del documento di autorità del documento tradizionalmente definito documento pubblico è quella e resta quella poi ci sono dei sistemi di corroborazione diversi c'è un'organizzazione della cancelleria che è differente però il documento è quello con il sigillo o con altri sistemi come dire di di roborazione ma è il documento solenne comunque insomma sarebbe interessante verificare e comparare un poco queste realtà perché insomma sappiamo benissimo che la rappresentazione documentaria vuol dire molto proprio ai fini della legittima effezione del potere quindi sono d'accordo su questo che il tipo ma solenne ha una sua funzione molto specifica grazie grazie a lei paola prego è al microfono spinto paola al microfono spinto non ci sentiamo allora professoressa galante no non è disponibile però è andato parecchio avanti rispetto a quando ci siamo viste noi a Salerno qualche anno fa ci ho lavorato durante il dottorato ci ho lavorato durante l'assegno di ricerca adesso per forza di cose ci lavoro e allora forza pubblichiamolo ci devo lavorare ancora spavibile piano piano ce la farò è un lavoro lungo come sa insomma è una cosa è in mane Elisa o Rosanna non so no vabbè io ringrazio i due relatori da cui ho imparato molto soprattutto volevo cominciare a dire una cosa che mi sono resa conto ascoltando i loro interventi e ascoltando gli interventi di chi ha posto domande Maria Galante Domenico Proietti che qui stasera ci sono le persone giuste a cui noi linguisti possiamo rivolgere una delle domande cosiddette di ricerca del PRIN esistevano veramente queste comunità di pratica dei notai degli scrivi se sì che forma avevano a seconda dei contesti delle tipologie di scrittura diverse ma questo è un altro seminario però vi dico subito che ve lo siete voluti ve lo siete voluto tutti gli intervenuti di stasera saranno requisiti per un seminario magari dopo l'estate in cui noi vi facciamo delle domande e voi rispondete per cui è una minaccia Rosanna non è un invito una minaccia no non un invito una minaccia certo una minaccia ma Rosanna io posso rispondere come Snoopy non seguitemi mi sono perso anch'io e no perché veramente sono state dette delle cose stasera come in altre occasioni da parte di amici storici della lingua paleografi che veramente veramente hanno una valenza eccezionalmente importante per la ricerca del nostro PRIN sul ruolo noi da linguisti lo vediamo sul versante delle strutture linguistiche ma molte delle cose che io ho sentito stasera hanno una rilevanza enorme per i ragionamenti che noi possiamo fare e ho persino l'impressione che ci siano dei parallelismi logici se non altro o concettuali su cui sarebbe di grande interesse per noi riflettere ascoltando voi ma questo appunto è un altro congresso è un altro seminario magari posso fare una domanda molto mirata a una cosa che ha detto Stefano Manganaro e non sono sicura di aver capito bene è un piccolo dettaglio grafico linguistico ma per noi di estremo interesse la grafia di pubblica la grafia di pubblica c'è uno scambio di P e B e quindi quali sarebbero le forme? pubblica 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 sì e quanto spesso ricorre quasi sistematicamente sistematicamente in questa forma in questa forma cioè sì la terza lettera è una P ok va bene e se posso aggiungere una cosa ricorre fino al tredicesimo sì ma come dire quella che si potrebbe considerare una disgrafia rispetto alla forma del latino tradizionale chiamiamolo così o grammaticalmente corretto c'è comunemente non con questo tipo di resa ma con altre anche nei documenti di cava Maria è vero pubblica cioè ci sono tutta una serie di varianti grafiche che nei poi ci sono diplomi quindi hanno un livello diverso da quello delle scritture private diciamo è molto interessante che ci sia una forma del genere no? che riflessioni si potrebbero fare? ma tu non l'avevi rilevato Rosanna il ciclo no come ti ricordi che quando abbiamo lavorato per il volume questa era una cosa che tu avevi notato noi avevamo notato assieme a te però dico siccome effettivamente il diavolo qua è nei dettagli e i grandi modelli teorici della comunità di pratica della comunità di discorso poi si vanno a scontrare con tanti micro dettagli di questo tipo sembra una cosa così da mettere in disparte ma in realtà quella grafia pubblica è di notevole interesse in un diploma in diplomi tanto più se Stefano dice che è una cosa sistematica o no cosa si può pensare di questo e cosa si può pensare di questa sorta di cristallizzazione di forme di questo tipo se capisco bene come ha detto Paola Massa fino a molto dopo sì sì assolutamente sì e quindi questi signori che scrivevano in questi contesti che sapevano quante cose quanti saperi linguistici non potevano condividere insomma si apre un fronte di considerazioni per noi linguisti prezioso quindi abbiamo ancora bisogno di voi in avanti Domenico dice che lui si occulta ma penso che non gli consentiremo di occultarsi e anche anche agli altri ovvio grazie grazie a voi grazie allora a tutti a tutti gli intervenuti non ci sono altri interventi direi di direi di no eh Elisa va bene allora il prossimo appuntamento Elisa quando è? il prossimo appuntamento è il 25 quindi teniamo la settimana prossima la settimana prossima allora è vero grazie ancora a tutti complimenti ai relatori di oggi e grazie per queste relazioni così interessanti alla prossima grazie a tutti buona sera arrivederci arrivederci a presto grazie a tutti